Buongiorno a tutti e a tutti, grazie davvero per essere presenti, per aver deciso di partecipare a questa giornata che l'Università di Padova dedica a Vitaliano Trevisal, questa giornata organizzata dall'Archivio Scrittori Veneti e dal Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari del quale siamo ospiti, per questo lascio subito la parola al Direttore del Dipartimento Professor Sergio Bozzola che ringraziamo per la sua presenza e per la sua forte adesione a questo progetto. Buongiorno, sono molte le ragioni per cui mi sento coinvolto anche vorrei dire personalmente o addirittura emotivamente in questa iniziativa, ragioni che riguardano prima di tutto la mia esperienza di lettore di Italiano Trevisan e poi la mia esperienza ancora, anche se seminima e laterale, di così audaci interprete della sua prosa, la cui interpretazione rimane, mi sembra ancora un busillis, tutto da sciogliere, una prosa che riesce a tenersi fuori dalle potenti compromissioni della lingua italiana con il suo presente o con la sua storia e che combina in un insieme, vorrei dire almeno per me ancora quasi misterioso, le opposte polarità del rigore formale e del parlato e della naturalezza. Questo scrittore è un grande scrittore, la cui forza straordinaria cerca ancora le proprie ragioni critiche e proprio in questo convegno intervengono per incominciare un cammino esegetico impervio alcune delle voci maggiori della critica di oggi che avete visto nel programma, voci che io stesso ascolterò finché potrò, stamattina devo solo andare via un certo momento ma poi tornerò, che ascolterò con la curiosità e in un certo senso l'ansia di risposte che risalgono ogni volta che mi avvicino a qualcuno che parla, che ragiona, che studia questo scrittore. Devo aggiungere a questo mio personale sentimento di attesa la gratitudine e il compiacimento del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterarii di cui sono ancora per pochi giorni il direttore entro il cui seno germina questa iniziativa grazie a Matteo Giancotti, Fabio Magro, Emilio Torchio, Emanuele Zinato e grazie all'Archivio Scrittori Veneti che il Dipartimento ha sostenuto, sostiene e continuerà a sostenere certamente come una fra le sue più promettenti e più rilevanti iniziative scientifiche. Rivolgo a tutte le persone presenti un saluto di benvenuto, un augurio di buon lavoro mio personale del Dipartimento che rappresento. Grazie. Grazie ancora direttore per il suo appoggio, appoggio che ha dato a questa iniziativa non solo in veste istituzionale ma anche come studioso e interprete dell'opera di Trevisan. Io aggiungo soltanto due parole in margine per introdurre questa mattinata i cui lavori di fatto sono già iniziati e nel corso della quale sentiremo gli interventi di Emanuele Zinato, di Gilda Policastro e di Simona Morando. Dopo questi interventi avremo una pausa per rifocillare i relatori e le relatrici e ci ritroveremo nel pomeriggio alle ore 15. Dunque oggi è relativamente facile affermare che ci stiamo occupando di un grande scrittore quando si parla di Trevisan, di una personalità assolutamente rilevante nell'ambito della letteratura italiana contemporanea. E sembra banale e anche falso dire che la morte cambia le carte in tavola quando si tratta di arte e letteratura. Però il caso di Trevisan dimostra che è proprio così. Quando è uscito Works nel 2016 una delle persone che interverrà oggi ha recensito il libro chiudendo il suo pezzo con questa frase dicendo cioè che Trevisan è un autentico maestro della nostra prosa. è una definizione alta, a lettere ben scandite insomma che era stagliata anche sul tono del pezzo. 2016 quello era un giudizio all'epoca non per niente pacifico e infatti qualche perplessità c'era stata intorno a questo giudizio, questa valutazione. E non erano tanti allora quelli che avevano il coraggio di esporsi in questo modo perché aderire a Trevisan, aderire a Trevisan in vivo, poteva essere sconveniente. All'uscita di Works, aggiungo questo ricordo, all'uscita di Works che mi sembra sia stato di gran lunga il libro più atteso di Trevisan, non è che le redazioni dei giornali avessero la fila per accapararsi le recensioni, insomma non ci si rubava i pezzi. E ora con questa giornata di studi che farà il paio con un'altra che vi annunciamo già e che si terrà in Accademia Olimpica il 13 novembre prossimo a Vicenza con altri incontri che si sono fatti e che ancora si faranno un po' ovunque si cerca di collocare la figura di Trevisan e la sua opera in una prospettiva più adeguata, più rispondente al suo valore e qualunque sia il significato di questa parola, parola prospettiva che come sapete Trevisan ha ferocemente attaccato ed è costruito soprattutto nel suo ultimo libro. Ecco, concludo dicendo che credo che alle studiosi e agli studiosi impegnati oggi mancherà il fatto che si possa ripetere qui un'esperienza che comunque non era delle più confortevoli al mondo, cioè l'esperienza come critici, come studiosi di essere contraddetti in presenza flagrante dal diniego vehemente dell'autore, oppure un'altra reazione non del tutto facilitante al compito poteva essere il suo silenzio totale, apparentemente inespressivo, ininterpretabile. O forse peggio ancora, qui ricorro a un aneddoto reso noto da Luca Iletterati, l'ipotesi di fare la propria relazione davanti all'autore e sentire alla fine un commento lapidario pronunciato da Trevisan, tutto giusto. Non so quale delle tre possibilità potesse essere la più spaventata, però tutto questo certamente oggi ci mancherà perché oggi un contraddittorio con l'autore possiamo solo immaginarlo e non è difficile comunque immaginare un dissenso nei confronti di questa stessa iniziativa. Detto questo io presento Emanuele Zinato che è il primo relatore di oggi, che come sapete è docente di letteratura italiana contemporanea e di didattica della letteratura in questa università, membro della giuria dei letterati del premio Campiello. si è occupato a lungo di Paolo Volponi e di molti altri autori, tra i quali Galilei, Fortini, Primo Levi, Zanzotto, tra i suoi ambiti di studio e di ricerca anche la storia della critica, la teoria della letteratura. Tra i suoi ultimi lavori ricordo la direzione del volume Insegnare letteratura, teorie e pratiche per una didattica indocile pubblicato alla terza nel 22, un po' meno recente ma comunque importante, letteratura come storiografia, mappe e figure della mutazione italiana, stato pubblicato da Quodlibet nel 2015. ci prego Emanuele Zinato. Buongiorno, benvenute a tutti e a tutti. Come è stato già detto, è difficile per la critica letteraria, in particolare in ambito accademico, dal conto dell'esperienza concreta dei testi di Trevisan, perché le parole della critica e l'abitat accademico risuonano vuote, potenzialmente nemiche e ostili agli intenti stessi, al posizionamento di Trevisan nel campo culturale. Per cui parole come finzione o autofinzione o prospettiva collidono. Quindi partiremo appunto da questa collisione e esporerò in sintesi la tesi di questo mio intervento, che è appunto la seguente. Nella scrittura di Trevisan abita un campo di forze i cui vettori, come i vettori della fisica, sono organizzati in una forma stilistica che ne permette la coesistenza conflittuale. Fra certamente verifica dello spazio e verifica delle parole, ma anche fra bisogno di appartenenza e di condivisione, anche creaturale, per usare una parola che ha usato Gilda Policastro, e necessità invettivale e aggressiva. Questa coesistenza, fra questi due opposti, da questa coesistenza scaturisce e ne deriva l'energia, la verità della sua prosa. Non si può apprezzare la scrittura di Trevisan se ci si limita a ridurla e a ritagliarla in questioni settoriali. Rinvia una totalità più vasta e la critica spesso si è rivolta a questioni settoriali, per esempio la rappresentazione dello spazio e la rappresentazione del lavoro. È evidente che un medesimo spazio ritorni in maniera ricorsiva e anche ossessiva, dai 15.000 passi al ponte un crollo, a tristissimi giardini, e come il lavoro sia tema centrale di works. Tuttavia è meno semplice individuare e far parlare la tensione e la saldatura fra verifica del paesaggio o verifica del lavoro e verifica critica delle parole e delle ideologie. Saldando soltanto queste due sottototalità separate si può afferrare la forza del polemista che istituisce continui cortocircuiti. Dunque il bersaglio, se c'è un bersaglio di Trevisan, dato che io cerco di parlare del polemista, del polemista paradossale, è il pensiero dominante. Le parole e i luoghi comuni anche, non solo i luoghi spaziali, dei vincitori. L'ira del polemista, moltiplicata dalla soggettività e rivolta agli spazi e insieme alle parole egemoni si impone nei suoi testi. Tuttavia nell'aggressività abita, proprio per la forma a spirale ricorsiva delle sue prose, l'ambivalenza e la duplicità. Cioè comprende in sostanza al contempo un disgusto più o meno esplicito ed energico è una segreta e negata passione per ciò che resta nei luoghi o nei gesti lavorativi intimamente mutati. Il sarcasmo coesiste con un bisogno tanto acuto quanto negato di ascolto e con la ricerca di una persuasione pur nella totale solitudine. Detto questo, questa è la premessa, passiamo ad alcuni rilievi testuali da alcune opere. Iniziamo con Tristissimi Giardini, che è uscito nel 2010 per la collana Contromando della Terza. Si tratta di un libro facilmente rubricabile, con le parole della critica odierna che appunto collidono con la prosa di Trevisan nella categoria passepartout di ibrido. Oggi davvero troppo utilizzata per definire le scritture dell'estremo contemporaneo. Tutto sembra ibrido. A ben guardare non si tratta di un ibridismo della mescolanza, ma di una tensione fra generi, fra autobiografia autoriflessiva e descrizione geografica in modo tale che, come è stato scritto, il saggio narrativo diventa un luogo di rettifica e di sarcasmo. Per esempio, questione che è stata già toccata ma che vale la pena riprendere, l'uso specifico delle note a piedi pagina come tratto stilistico concreto della prosa di Trevisan. Le note a piedi pagina in Tristissimi Giardini assumono due differenti funzioni, anch'esse in frizione reciproca. L'una ha numeri arabi di rincaro e sottolineatura di quanto si sta narrando, l'altra ha numeri romani a carattere in apparenza oggettivo e bibliografico. Gli autori citati, infatti, contrariamente a quello che succede nelle convenzioni degli studi accademici, sono soggetti a torsioni, a volte a maltrattamenti, a presi di distanza, come per esempio accade esemplarmente nel capitolo iniziale di Tristissimi Giardini, a proposito di Marco Gé, a proposito del lemma non luoghi, dove troviamo un vero e proprio detournement. Sapete, la tecnica del detournement era tipica del Debord, Guy Debord. Come Debord, anche Trevisan aggredisce i termini di moda, in questo caso della moda culturale, rovesciandoli, riconvertendoli all'uso della propria guerriglia linguistica. Cito, personalmente, sta in nota questa citazione, l'autore ritiene che la letteratura, così come la vita, o è ricerca o non è. Così, lo scopo del nostro viaggio non potrà che essere l'esplorazione di quelle zone di resistenza all'evidenza, in corsivo, di cui parla l'inventore del non luogo, con la sostanziale differenza che della loro esistenza fuori e dentro di noi abbiamo coscienza come di qualcosa di affatto concreto, per niente effimero, assolutamente reale. Qui si sta polemizzando contro la retorica postmoderna, che può esserci nel termine di moda non luogo, che prevede la derealizzazione. Alla derealizzazione Trevisan contrappone l'assolutamente reale. La retorica del polemista, insomma, è travestita dal sistema delle note e potenziata di finta oggettività. Viene aggredita la retorica postmoderna dell'effimero, dell'immateriale, dell'irrealtà, della rappresentazione. Tutto è rappresentazione, no? Ma al contempo quella finta oggettività è indizio dello statuto generale dell'intera prosa di Trevisan. Fare dell'estranità una scienza. Perché lapidariamente, con stile dilemmatico e disgiuntivo, la letteratura, così come la vita, o è ricerca, o non è? Nel capitolo dei tristissimi giardini intitolato Centro, le parole e le cose, il linguaggio dominante e lo spazio mutato entrano in un cortocircuito tendenzioso. Qui si mette in scena l'urto tra la funzione originaria dei palazzi del centro storico vicentino e la loro attuale destinazione d'uso. Trevisan indaga, con precisione nomenclatoria, ciò che resta di palladio dopo la sua trasformazione in brand commerciale. L'aggressività stilistica qui si basa sull'accumulo di tutte le aziende, aziende, termine sacro nel presente, e le società che si sono appropriate dall'identità palladiana per darsi una patina di nobiltà e di appartenenza al territorio. L'elenco dei marchi, desunto dalle oggettive pagine gialle consultate in rete ma, guardando bene, impercettibilmente ritoccato con malizia stilistica, prosegue per due pagine, assumendo la forma di una vera e propria litania distorsiva che fa cozzare nomi illustre con le sigle commerciali più triviali. Palladio Impianti, Centro Medico Palladio, Palladio Scale, Centro Sport Palladio, Palladio Stufe Maiolica, Hotel Palladio, Profumerie Palladio di Castello, Infortunistica Palladio di Mattiazzi, Pizzeria Ristorante Palladio, Scatolificio Palladio, Scatole Pinballaccio Palladio, Istituto Privato Palladio, e via così. Dopo questo elenco iterativo, il capitolo culmina con l'affermazione lapidaria, Vicenza è bernardiana ben prima di Bernard. Si tratta di un elogio appassionato di ogni soccombente, perché il trionfo del nome Palladio, a cui per trascinamento si adeguano tutti i nomi dei marchi immobiliari, degli studi dentistici, delle pizzerie, delle palestre, degli hotel e dei supermercati, rivela il vizio fagocitante dei vincenti, la loro smisurata inclinazione a colonizzare e divorare le parole e le cose. Tutta la simpatia dell'autore è rivolta infatti all'architetto cinquecentesco Scamozzi, opacizzato da Palladio, a cui l'onomastica stradale odierna riserva solo i vicoli periferici. Nel campo di forze della scrittura, al disgusto per le forme di vita politico-culturali dominanti, si accosta per spinta e controspinta archimedica, la Pietas, perciò che è estraneo, perché è stato rimosso ed è rimasto senza voce. In questo senso, lo stile di Trevisan, come lui stesso scrive, delle straneità fa una scienza. Grazie a questa coesistenza si pone come un antidoto a quelle che lui chiama le polveri sottili. Sono polveri sottili linguistiche che abitano molto l'ambiente accademico, per esempio, o tra quello aziendale, dato che non c'è nessuna differenza più tra l'azienda e l'accademia. E queste parole sono eccellenza, produttività, merito, progetto, comunicazione, evento. Passo a un altro testo, l'edizione ampliata di Wox 2022, uscita postuma. Comprende la parte inedita dal titolo Dove tutto ebbe inizio, che condensa con il massimo grado di lucidità lapidaria questa accanita ricerca di zone di resistenza. Alle parole dominanti, cito, E in effetti, penso, in rapporto ai concetti di produttività, meritocrazia, eccellenza, capacità di gestione e altre simili amenità, i conti non tornano affatto. Tornano invece le parole. E continuamente, ripetutamente, ossessivamente, queste dette e ridette parole, non smettono di ritornare nella cosiddetta odierna narrazione, e che è narrazione soprattutto industriale, o meglio economica, la cui pervasività è tale da aver ormai allungato e dilatato la sua ombra sulla totalità della cosiddetta narrazione, che non a caso è sempre più comunicazione, al punto che i termini sono interscambiabili, pervasività, allungamento e dilatazione, acquisita per tramite di una schiera di insaporitori, veri e propri esaltatori di sapidità, che si sono attribuiti il compito, più o meno ben retribuito, di comunicare, ossia vendere, essa narrazione, che sia sempre cosiddetta amen. Anche il trattamento del lavoro è bifido, a ben guardare. Wox si presenta, come sappiamo, come un resoconto autobiografico delle esperienze lavorative affrontate dal narratore tra i 15 e i 40 anni. Tutti questi lavori sono trattati in modo intimamente duplice, fra scambio economico, insofferenza per l'autorità, abilità operativa e acume nell'osservazione. Da un lato è in dubbio che per Trevisan il mito del lavoro celebrato fino al parossismo della provincia veneta sia in primo luogo una maledizione biblica e una prostituzione senza mediazioni. Cito come se fosse possibile penso ora venire a fatti con una maledizione che almeno a leggere la Bibbia ci meritiamo tutti per il solo fatto di essere venuti al mondo oltretutto in un paese che suddetta biblica maledizione pretende di fondarsi e di nuovo oltretutto in una regione il Veneto e in una provincia Vicenza che fa del lavoro una religione ma ora forse più mito che religione. eppure fra le pagine di Works ve ne sono alcune in cui l'autore racconta quanta promessa di vitalità quanta promessa di pienezza potrebbe esserci in un lavoro ben fatto. La scrittura di Trevisan oscilla infatti fra l'invettiva antisociale e la celebrazione del piacere dell'aperizio operativa in modo tale che per esempio l'opera del lattoniere che lavora sui tetti e sulle lamiere delle grondaie può ricordare quella del montatore di Tralicci Leviano Libertino Faussone in La chiave a stella. Questo bisogno di libera attività e di invenzione è sempre mortificato ostacolato condizionato fagocitato dal senso comune dal linguaggio dominante come accade per esempio nel capitolo di Works intitolato La caduta dedicato all'esperienza di lavoro come quadro in un'azienda di mobili. L'autore pur accettando questo impiego solo per denaro non si esime dal mobilitare la sua intelligenza nell'ideazione di un nuovo montante ad angolo per armadi. La sua proposta viene però seccamente rifiutata dal direttore generale che è chiamato Collo che non c'è perché quel montante di legno nella sua essenzialità secondo il direttore non ha abbastanza contenuti non è abbastanza tecnicale. Il direttore una volta bocciata la proposta dell'autore in base a una rosa idea di estetizzazione del prodotto che ci possiede tutti universitari compresi ottiene dal presidente che si è messo in produzione un montante d'angolo in profilato di alluminio estruso laccato nero goffrato un progetto che costa cento volte di più e che porta alla messa in liquidazione dell'azienda e il sottoscritto dice Trevisan in mobilità l'invettiva di Trevisan smaschera in tal modo l'ottusità egemone e ne mette a nudo i tic linguistici tecno aziendali tecnicale contenuti ma al contempo valorizza con perizia ingegneristica sapiente il riguardo specifico del ciclo di produzione calandratura goffrato laccato che sono termini specifici di incisione su una superficie attraverso le macchine una riprova conclusiva un altro testo l'ultimo che prenderò in considerazione è un testo raro questo Man's Land allora questo è un testo breve che è stato commissionato nel 2017 in occasione dell'avvio del discurso progetto del parco della pace a Vicenza cioè l'ex aeroporto e base militare americana dal Molin convertito in un grande parco urbano di nuova generazione definito dai progettisti dai politici opera verde pacifica coraggiosamente innovativa e soprattutto aperta agli eventi parola magica il volumetto verso il parco della pace è stato diffuso come supplemento gratuito del giornale di Vicenza e propone si propone come titolo di essere un atlante narrativo accosta infatti alle pagine del testo commissionato a Trevisan le fotografie di Andrea Portoledo che si concentrano su dettagli marginali della ex base in cui soprattutto ci sono erbe che si insinuano fra le crepe del cemento nelle aree militari dismesse poi però ovviamente nella parte non più creativa ma tecnica seguono i dati le planimetrie i numeri 650.000 metri quadri di superficie e ovviamente il lungo elenco degli sponsor quindi vengono accostate la parte creativa di due creativi il fotografo e il narratore nell'operazione della costruzione di un atlante narrativo alla parte tecnicale come nella azienda di mobili come fa Trevisan a incistare il suo testo in questo macro testo no? quale operazione di dissimulazione di aggressività produce? quale polemica? allora nell'involucro propagandistico fondato sul paradigma della cosiddetta narrazione infatti che è sempre più comunicazione aziendale e il titolo è un atlante narrativo il testo saggistico malizioso dissimulatore di Trevisan agisce come una pietra d'inciampo come una lima nella pagnotta dell'argastolano per citare Franco Fortini il breve testo presentato dagli estensori dell'opuscolo come un racconto perché è uno scrittore non può che narrare invece è un accuminato digressivo tendenzioso saggio politico antravestì Trevisan dichiara di accettare la committenza per denaro è precisa cito voglia o no sarà un pezzo politico nessun dubbio su questo evidente prima ancora di cominciare a scriverlo il solo fatto di aver accettato la commissione mi pone secondo qualcuno dalla parte dei committenti ovvero i progettisti del di là da venire parco della pace e dunque risalendo per commistenze il comune di Vicenza lo stato italiano e per finire laddove tutto è cominciato quello americano ovviamente non si tratta dal mio punto di vista ma capisco al giorno d'oggi sempre più viene richiesto spesso e se si esercita una professione artistica di prendere posizione sulle questioni più disparate e naturalmente ci si aspetta anche che la nostra posizione sia politicamente corretta ovvero sempre dalla parte dei cosiddetti buoni o illuminati che dir si voglia per quanto mi riguarda esprime pubblicamente un'opinione in quest'ambito che non prevede spazi di argomentazione mi ripugna vorrebbe dire entrare nella cosiddetta comunicazione accettando le regole ora che la mia penna sia in vendita è un fatto e come altro dovrei guadagnarmi da vivere se non scrivendo e se il mio editore tanto per fare un nome concreto è in Audi che come noto è una controllata di Mondadori che è di Berlusconi significa forse che sto dalla parte di Berlusconi definita quindi la sua posizione specifica conflittuale e al tempo stesso contrattuale nel campo del mercato delle merci culturali Trevisan con una serie di digressioni concentriche tocca in breve uno la genesi storica dell'area la base americana il movimento contro la base dal Molin la pura retorica del nome pace dato a quel progetto la base è definita invece come un hub della democrazia che ci fa capire quali siano scrive all'interno del sistema democratico a cui apparteniamo le gerarchie 2 definisce la sua specifica situazione di scrittura dichiara cioè di star scrivendo questo pezzo mentre si trova ospite in un casale ristrutturato in Toscana di un'amica che in gioventù aveva partecipato alla manifestazione contro il G8 di Genova e poi il movimento contro il Dal Molin ma che poi ha sposato un uomo ricco di destra per permettersi il casolare e ciò permette a Trevisand di affermare e compio bene e voilà ecco dimostrato grazie a un incontro casuale come da questa civiltà filtrata non partiranno mai movimenti autenticamente rivoluzionari 3 finalmente nell'ultima pagina a proposito dell'area del progetto del parco scrive non mi dispiacerebbe se tutto rimanesse com'è cioè se non venisse affatto compiuto il progetto in un territorio iperantropizzato come il nostro scrive ogni terreno abbandonato e qui probabilmente poi Varotto ci dirà qualcosa sui terreni abbandonati è un valore già così penso con le piante pioniere i cumuli di macerie le varie rovine sparse i fossi gli animali selvatici sarebbe un magnifico parco giochi un posto ideale per i bambini che potrebbero passare i loro pomeriggi dopo la scuola a esplorare e a giocare in libertà ma le mie parole tradiscono l'età l'infanzia di oggi ha poco a che fare con quella di 40 e più anni fa dunque abbandoniamo l'idea di progettare un abbandono anche perché come detto il progetto c'è già è già stato approvato ed è a un passo dalla sua fase esecutiva la man's land del titolo dunque è il contrario di terra di nessuno la no man's land resa celebre per esempio da un film del 2001 sulla guerra serbo-bosniaca è dunque il progetto di un abbandono un progetto di un abbandono abortito il valore di ciò che non è stato ancora messo a valore la gioia di uno spazio perduto che per un momento si affaccia come concreta esperienza di libertà dai progetti e dal progettese per poi essere negata perché inevitabilmente soccombente uno spazio senza progetto contro il dilagare dei progetti il bene appare per un istante come residuo i giochi delle bande dei bambini la libertà dei territori abbandonati le trote dell'alta valle il laghetto dei poareti ma deve subito convivere con la consapevadezza cruda della sua inevitabile negazione cito in definitiva non ho opinioni su nulla nemmeno su questioni che mi riguardano direttamente come la mini centrale elettrica che mi sarà costruita letteralmente davanti casa e la cui presa d'acqua ridurrà drasticamente il flusso del chiampo privandomi del sottofondo di cascata che tanto apprezzo e farà sparire le trote dell'alta valle che sono già poche e quasi certamente porterà all'inaridimento del sottostante laghetto dei poareti dove d'estate trovano pacificamente svago e refrigerio una quantità di umani di varie razze in nota lo so dovrei dire etnie e religioni in definitiva sarà per me una rottura di coglioni e lo stesso non me ne curo la regione Veneto ha deliberato e il progetto è stato presentato e approvato dal comune di Crespadoro e siccome si tratta di un processo democratico di governo del territorio nessuno a questo punto potrà più farci nulla e lo stesso vale per il parco della pace grazie alla scrittura di Trevisan dunque mi avvio a concludere l'opuscolo destinato a propagandare a tutti gratuitamente l'innovazione e il progetto del parco della pace Vicentino reca dunque in sé dissimulata la sua negazione perché come ha scritto Giglioli che purtroppo è di assente la sua attrabiliare stilistica la sua di Trevisan non ha nulla del collaborazionismo per esempio di un Wellbeck se come è stato detto nessuno scrittore del nuovo millennio ha saputo narrare con la stessa forza e la stessa precisione apprezzabili in works le mutazioni territoriali la mobilità dei processi lavorativi contemporanei ipercapitalistici altrettanto si deve dire a proposito della dicibilità delle contraddizioni e delle rimozioni su cui si fonda il nostro presente ad esempio la rimozione di tutto ciò che non celebra il trionfo del modello aziendale e ne condivide i luoghi comuni il modello neoliberale postdemocratico quello della governance Trevisan grazie alla sua ragione polemica e invettivale si configura come il maggior prosatore politico italiano del primo 2000 grazie alla negazione di una qualsiasi prospettiva propone la sola radicale prospettiva possibile alla scrittura di oggi l'opera di demistificazione grazie alla quale è possibile come in Black Tulips verificare quanto tutto ciò che è mercificato custodisca la solitudine è una nostalgia non redimibile per questo ogni sua indittiva è sempre ambivalente proprio perché tornando al libro da cui siamo partiti Tristissimi Giardini la messa in forma dei bersagli del polemista comprende celato nascosto l'attimo l'interstizio di resistenza e di pietà per ciò che il luogo comune egemone continuamente cancella e dentro di noi distrugge cito l'ultima citazione e ho finito quelli insieme da Tristissimi Giardini quell'insieme di luoghi comuni così noti che è perfino fastidioso e superfluo elencarli che contribuiscono a comporre l'immagine del cosiddetto nord-est che è ormai anch'esso un luogo comune il quale sommato a tutti gli altri forma quel gigantesco agglomerato di luoghi comuni che è la nostra povera patria grazie non mi hai lasciato l'opuscolo però mi hai lasciato il Mac posso tenerlo quindi grazie dunque grazie Emanuele Zinato che ci ha dato cominciato a darci delle interessanti categorie terminologiche utili a entrare dentro l'opera di Trevisan riprendo soltanto alcune guerriglia linguistica e poi l'atteggiamento bifido che implica contraddizione nella stessa pagina di Trevisan che pure spesso era governata da una logica ferrea però questa contraddizione specialmente quella che Emanuele Zinato ha nominato tra sarcasmo violenza che coesiste con la necessità di ascolto e di contatto sprigiona energia e dà forza a questa pagina grazie anche per aver reso noto un testo che è pochissimo conosciuto e averlo messo al centro del tuo discorso altre parole importanti sono committenza perché per Trevisan è una parola chiave committenza e rapporto con la committenza committenza per denaro e poi ancora posizione contrattuale insieme con posizione conflittuale cioè di conflitto con la committenza adesso è una battuta ma fino a un certo punto mi viene in mente che probabilmente il primo committente di Trevisan è stato lo Stato italiano cioè di Trevisan come alunno della scuola italiana qui faccio riferimento a delle cose che ti ho ancora sentito dire cioè al famoso tema di maturità sul terrorismo e Aldo Moro nel 1979 tema che fu giudicato malissimo perché lo Stato italiano dopo aver chiesto e commissionato questo lavoro di espressione dell'opinione giudicava che l'opinione non si potesse esprimere voto 4 come ricordate in episodio narrato in works dunque già i conflitti con il committente erano insomma erano nel destino dunque io chiamo ora al tavolo la seconda relatrice di oggi che è Gilda Policastro insegna l'università telematica Pegaso ma è anche docente di scrittura creativa in virtù della sua produzione originale di autrice sia in prosa che in poesia leopardista si è occupata di vari altri autori come Pasolini Pagliarani Sanguinetti ne cito solo alcuni a Sanguinetti ha dedicato un volume edito da Palumbo nel 2009 ha scritto anche su Carlo Levi ha pubblicato un importante documento inedito e si è occupata di aspetti di sociologia della letteratura a questo proposito va citata la monografia polemiche letterarie dai novissimi ai lead blog Carocci 2012 i blog sui quali Gilda Policastro è stata ed è molto attiva come critica militante come polemista a sua volta per quanto riguarda Trevisan va citata un'intervista molto bella pubblicata sul sito Le parole e le cose se non dico male nel 2019 la sua monografia critica più recente è l'ultima poesia scrittura anomale in mutazione di genere dal secondo novecento a oggi è stata pubblicata da Mimesis nel 2021 grazie ancora per essere con noi ti c'è la parola grazie a voi per l'invito buongiorno a tutti a tutti mi pare che si debba dire una piccola premessa indispensabile quando parliamo di Trevisan parliamo di un autore scomparso tragicamente scomparso volontariamente con un gesto che come tutti i gesti plateali ci interroga anche a distanza di tempo si è fatto un gran parlare negli anni recenti delle responsabilità degli scrittori della perdita del mandato sociale degli scrittori esiste anche una responsabilità verso la scrittura che responsabilità abbiamo rispetto alla scrittura e come si fa a confrontarsi con un autore come l'italiano Trevisan da postumo quando ho sentito parlare per la prima volta di questo autore io muovevo i primi passi come critica e nella mia cerchia ristretta di intellettuali docenti un po' meno degli scrittori l'italiano Trevisan era considerato un autore obbligatorio in un canone ammesso che importi ancora qualcosa a qualcuno del canone ecco non poteva non essere citato e tra l'altro nel 2014 uscì a cura di Andrea Cortellessa l'antologia La terra della prosa che appunto raccoglieva l'opera di 30 narratori e l'italiano Trevisan naturalmente aveva il posto che gli competeva tra l'altro a quell'altezza non era ancora uscito Orsi un libro che effettivamente avrebbe potuto dargli una notorietà maggiore nel panorama letterario nel panorama narrativo italiano contemporaneo perché pur essendo un libro ponderoso infatti non l'ho qui con me proprio per il peso è un libro godibile che effettivamente si legge in modo un po' più semplice rispetto agli altri che hanno quei tipici abitamenti ossessivi l'estroflessione dell'interiorità che ne rende meno agevole la lettura che si dice page turning a cui i lettori di romanzi sono ormai a suoi fatti e da cui proprio dipendono anche il ragione delle serie tv i famosi turning point cui Moretti nell'ultimo film irride e che sono effettivamente diventati il motivo di maggior interesse il colpo di scena works è in realtà come è stato anticipato da Zinato il racconto del susseguirsi di esperienze dei lavori che propriamente ha svolto l'italiano trevisan i più disparati dal gelataio al lattoniere fino allo spacciatore è un lavoro pure quello dice in works e appunto fino all'approdo poi alla letteratura e c'è questo passaggio significativo dell'accezione del termine works da appunto lavori che forse sarebbe stato più corretto definire jobs a appunto alle opere ecco dal momento che poi l'autore empirico trevisan era riuscito a smarcarsi da questi lavori diciamo manuali riuscendo in qualche modo a vivere di scrittura come sceneggiatore di cinema e di teatro lavoro manuale anche quello in qualche modo ecco nel libro racconta di questo passaggio e di quello che aveva comportato anche in termini di consapevolezza e di costruzione di un'identità non garantita questo era un punto su cui trevisan rifletteva perché non venendo appunto da una famiglia abbiente non aveva avuto le certezze materiali garantite e nel suo caso queste certezze materiali avevano costituito un approdo per quanto poi inquieto e mai realmente pacificato e dopo Works sembrava effettivamente impossibile che potesse scrivere un altro libro così significativo sul piano esistenziale e in qualche modo poi Works è stato anche rappresentativo di un ambito latamente generazionale con appunto il tema del precariato che aveva avuto una tradizione letteraria che andava dal desiati di vite precari amore eterno all'aldo 9 di mi chiamo Roberta ho 40 anni guadagno 250 euro al mese ecco ovviamente trevisan lo aveva declinato in tutt'altra maniera con una piegatura ontologica ed esistenziale ecco il libro postumo propriamente postumo Black Tulips di cui parlerò un po' alla fine ha appunto racconta una vicenda retrodatata rispetto a Works che ha riguardato l'autore appunto quando era portiere in un albergo e svolgeva uno di quei lavori e ancora una volta si lega a un mondo marginale notturno e in qualche modo illegale perché la vicenda ruota attorno appunto al traffico delle prostitute nigeriane di cui Trevisan era diventato amico e tra l'altro mi è capitato di dirlo spesso in occasione di queste celebrazioni giustissime e molto opportune di questo autore ci sono sempre delle immagini fotografiche nei libri di Trevisan che rimangono impresse per esempio in Works c'è quella immagine del consegnare la propria vita sul cantiere a un altro operaio ma la propria vita proprio intesa materialmente cioè farsi tenere per la vita che è un gesto di assoluta fiducia e in Black Tulips invece questo mondo della prostituzione questo mondo dell'illegalità viene consegnato all'immagine finale di questo scantinato in cui vengono radunate le ragazze che poi vedono passare la vita sopra le loro teste from the shoes quindi dalle scarpe immaginano e ricostruiscono storie ecco è un libro anomalo anche Black Tulips ha molte note ha molto ha un'imposazione di tipo saggistico ed è appunto un libro che probabilmente avrebbe avuto necessità di un'ulteriore mano d'autore visto che si presenta inconcluso con un appunto che non ha sviluppo e in questo senso il libro incompiuto il libro inconcluso mi aiuta a entrare un po' più nel merito del mio intervento perché si lega il libro incompiuto il destino di Trevisan a quello di Pasolini anche se appunto Pasolini ovviamente è stato barbaramente assassinato e non sappiamo quanto ancora avrebbe lavorato sul petrolio Trevisan ha fatto una scelta come si dice con parola orrenda telefonata però non per questo meno sconvolgente in ogni caso l'opera ultima non è finita per entrambi perché forse in entrambi i casi era impossibile dare compiutezza a una materia così così vibrante così piena di verità ecco parlando di Trevisan si parla di libri o almeno io parlo di libri e non di romanzi perché era questo il modo con cui Trevisan stesso si riferiva ai suoi scritti non romanzi a partire dai primi dai 15.000 passi del 2002 a un mondo meraviglioso del 2003 in realtà il primissimo era Trevisan senza pianoporte il ponte del 2007 questi tre i 15.000 passi un mondo meraviglioso e il ponte appartengono alla fase che credo per primo Franco Cordelli sul Corriere della Sera ma poi molti altri dopo di lui avrebbero definito Bernardiana tra l'altro l'esplicitazione del debito era immediata la voce narrante di questi libri anche se appartiene a una prima persona è quella di Thomas e in questo sdoppiamento c'è appunto una rivelazione che è anche uno scarto si tratta di non romanzi perché la storia intesa come plot non ha grande rilevanza e a parer mio è questo il motivo per cui l'italiano Trevisan non è stato presente sulla scena letteraria come altri che si sono conquistati spazi maggiori nei vari contesti premiali e non ecco nella scrittura di Trevisan tutto procede in forza di lingua la lingua di una deriva di un processo mentale che è fatto di ossessioni che non è assolutamente facile da comunicare ecco un termine che riprendeva che usava Zinato e proprio la scrittura era il motivo per cui lo avevo poi invitato a uno dei miei corsi di scrittura che però sono dei corsi di poesia io gli avevo detto non sei un poeta ma vorrei che parlassi di scrittura ecco perché lui tra l'altro veniva dal jazz quindi era fondamentale per lui il ritmo e il ritmo e la cadenza sintattica conosciamo tutti le ripetizioni dei famosi predicati in funzione narrativa quelli esplicitamente bernardiani effettivamente quegli incastri di pensò pensava dissi in cui appunto nel monologo interiore si inserisce il discorso diretto e così appunto ci si trova spesso di fronte a due predicati e questo espediente non rende certo piana la lettura appunto per lettori abituati a diverse scritture più piane ed editorialmente vincenti ecco questo è effettivamente un punto di contatto forte con Bernard e la prima domanda che gli feci durante questa lezione che poi ho trasformato in un'intervista che è uscita sulle parole delle cose e che l'italiano Trevisan aveva rivisto integralmente quindi si può considerare effettivamente uno scritto suo ecco la prima domanda che gli avevo fatto era non tanto il modo in cui aveva incontrato Bernard ma il modo in cui Bernard aveva incontrato lui cioè aveva offerto delle soluzioni alla sua scrittura e la sua risposta era stata in realtà un po' spiazzante ovvero che la sopravvalutazione dell'influenza di Bernard nella sua scrittura dipendeva dal fatto che in Italia Bernard è più conosciuto di Beckett ma lui riconosceva come modello e lo dirà poi anche in Black Tulips come modello diretto Beckett quindi nei 15.000 passi in realtà è molto esplicito l'andamento bernardiano appunto questo computo dei passi pensiero passo conto che il protagonista appunto impiega per andare da casa sua alla casa del notaio ecco all'interno di questo tragitto come ricorderete e lo ha ricordato questo tratto in particolare è stato oggetto della relazione di Zinato ecco entrano le famose invettive a modo durante questo tragitto di maturare e di portare di estroflettere tutta una serie di idiosincrasie ce l'ha con tutto ce l'ha con l'architettura urbana ce l'ha con la scuola con l'università da cui dice di aver rassegnato delle vere e proprie dimissioni ce l'ha con i giornali ce l'ha con gli esseri umani in cui non vorrebbe mai imbattersi tra l'altro al di là dei personaggi familiari che poi costituiscono il pulcro della vicenda narrata ci sono una serie di personaggi di questa vicenda che sono memorabili che sono magari personaggi minori come l'uomo che si prende la gamba a badilate oppure le due vecchie che litigano fino alla morte cioè la ricca e avida affittuaria e l'inquilina che si impunta nel non darle il fuori busta ecco Trevisan definiva il suo tipo di scrittura monologo esteriore e effettivamente c'è questa natura estroflessa dei suoi di pensieri che sembrano effettivamente portati a galla e tra l'altro Zublena nella recensione al romanzo Il ponte che è del 2007 parlò di ventriloquia come forma di esistenza mancata rispetto al debito bernardiano non mancando però di sottolineare come mentre in Bernard la voce del narratore è una voce sardonica e a tratti sadica la piegatura di Trevisan è piuttosto malinconica e c'è questa continua evocazione ad esempio del passato che dà appunto questa tonalità un po' diversa e nel ponte è decisiva la figura di Pasolini perché quel tratto caratteristico dell'atteggiamento del narratore di Trevisan che Trevisan stesso definisce smonamento rispetto all'esistenza diventa parola che a voi è più familiare che a noi lettori non bene ti immagino e ecco questa diciamo questa insoddisfazione questa condizione che nei 15.000 passi è esistenziale diventa invece assume i tratti cito ancora Zublena di un'allegoria di una situazione sociale e politica nel ponte e il tramite di questo passaggio appunto da una condizione esistenziale alla riconversione alla traduzione di questa insoddisfazione in termini politici è proprio Pasolini che è citato continuamente nel ponte per i suoi corsivi essenzialmente ma anche per le riflessioni sulla lingua e poi a Pasolini appunto si riconnetterà suo malgrado l'opera finale e c'è questa stretta relazione a cui poi il titolo del mio intervento si richiama sul tema della madre nel ponte appunto Trevisan annuncia scriverò un saggio sulle madri o contro le madri tra l'altro scrivere delle madri è un po' l'ossessione di molti scrittori di cui peraltro mi sono nello specifico occupata dalla madre marmorea di Giacomo Leopardi alle varie madri alla madre Mangarelliana Gaddiana che è questa madre appunto che fa gocita e che castra il figlio e appunto una delle domande che avevo rivolto a Trevisan durante questa lezione era proprio ma che ci hanno fatto le madri qual è la colpa ecco e in realtà una risposta era già effettivamente nel ponte e non solo nelle pagine crudissime in cui c'è questo grobiglio di un senso di colpa rispetto all'anticipazione e al desiderio della morte della madre che appunto viene vissuta nella proiezione come una liberazione che però appunto causa questo senso di colpa ma c'è soprattutto l'immagine incipitaria di queste crudissime pagine in cui la madre viene introdotta e se il padre che invece è la figura totemica di Worx e si segnala tra l'altro per un pensiero che potremmo riassumere con se vuoi la bicicletta pedala e chi ha letto il libro può comprendere il riferimento la madre è appunto la figura mostruosa dell'accudimento forcluso o spostato e lo spostamento non avviene come in Gadda ad esempio sui cari altri se pensiamo alla madre di Gonzalo nella cognizione c'è questo tema dei cari altri che sono delle figure a cui la madre dedica maggiore attenzione e su cui si concentra nel ponte di Trevisan le figure dell'accudimento della madre sono le piante mi ha colpito questa immagine perché le piante ancora in leopardi sono epitome della condizione del tutto in male questo giardino dice il narratore del ponte mi è sempre piaciuto così proprio perché è così diverso da quel giardino della mia infanzia in cui mia madre mi costringeva a passare gran parte delle mie giornate anziché lasciarmi uscire come avrei voluto per andare a giocare in strada da solo pensai perché non potevo uscire e non potevo nemmeno fare entrare i miei amici a giocare e soprattutto non potevo fare entrare Pinocchio c'era il rischio di rovinare quei magnifici fiori a cui mia madre ha sempre dedicato la sua parte migliore che cosa ci hanno fatto le padri ecco il solo averci messo al mondo già basterebbe con il David Benatar di meglio non essere mai nati il dolore di venire al mondo un libro del 2018 che ha fatto decisamente discutere ecco entrambi Pasolini e Trevisan rovesciano la retorica delle nascite della crescita felice nascite che per Pasolini sono bocche da sfamare nel crudissimo appunto di petrolio in cui la coppia è maledetta ma la coppia era maledetta la coppia consumistica in particolare in tanti altri scritti tra cui il soggetto per un film sopra una guardia di pubblica sicurezza in cui Pasolini stigmatizzava quell'abitudine della coppia a stringersi poi è un'immagine che ritornerà in petrolio la coppia costituita dal Merda e da Cinzia che attraversa le borgate romane che si stringe in questo abbraccio insensato finché il braccio non cade al Merda ecco nel saggio precedente uno scritto del 75 i giovani maschi che camminano quasi religiosamente per strada tenendo con aria protettiva una mano sulla spalla della donna o stringendola romanticamente per mano fanno ridere o stringere il cuore c'è sempre questa ambivalenza tra disprezzo e questa sorta di adesione emotiva sentimentale niente più insincero di un simile rapporto che realizza in concreto la coppia consumistica e a fare eco a questo passaggio c'è poi la nota in politica di petrolio che è l'appunto 72 tra l'altro è sintomatico poi lo dirò alla fine che i capitoli si intitolino appunti in petrolio ed è un ulteriore link tra i due autori di cui mi vado occupando ecco in questo appunto Pasolini scrive all'epoca in cui si svolgono i fatti del presente romanzo la coppia anziché essere benedetta e maledetta e tanto più quanto più è adulata reclamizzata e imposta attraverso la cosiddetta permissività sessuale ma la sua evidente insincerità rivela senza ombra di dubbio che essa è criminale infatti un tempo ogni figlio che da quella coppia nasceva contribuiva a prevalere delle nascite sulle morti cioè era un bene necessario oggi esso è un vero e proprio delitto contro l'umanità minacciata da una crescita eccessiva e quindi dalla fame e dalla svalutazione dei singoli uomini ecco a mio parere se l'ottica di Trevisan rimane comunque l'ottica rispetto al tema delle madri quella di un antagonismo generazionale Pasolini guarda i figli soprattutto come esito della coppia e quindi il problema diventa la nascita come fatto sociale culturale e politico mentre per Trevisan però posso sbagliare su questo magari possiamo anche discutere ha una più decisa piegatura esistenziale tra l'altro i personaggi femminili sono pochissimo presenti nella narrazione di Trevisan almeno fino a Black Tulips dove però non a caso dalle madri ci spostiamo sulle prostitute ripetendo l'antitesi atavica tra santa e puttana per dirla un po' volgarmente ecco nelle opere precedenti c'era appunto c'erano figure di sorelle succubi di madri preferibilmente morte oppure da morirle se mi si passa il solecismo ecco la risposta alla domanda che cosa ci hanno fatto le madri aveva effettivamente spostato l'ottica sulla specula del padre dalla specula del padre la risposta era questa un problema esistenziale personale peraltro in comune con i citati Bernard e Beckett che direi oggi più che mai centrale il padre è stato archiviato da tempo al presente non è più un ruolo essenziale ma puramente accessorio la madre non è possibile archiviarla ma il ruolo continua a definirsi il rapporto a un padre che non esiste bisognerebbe forse anziché aprire a famiglie altre rispetto al modello ma comunque basate sulla coppia che sia etero o omo cambia poco archiviare finalmente il concetto stesso di famiglia e procedere accettando come presupposto il fatto che i figli sono delle madri sarei per una poliandria che perdesse per strada il concetto di padre biologico e non costringesse uomini e donne a vivere per forza insieme costrizione culturale da cui vengono se non tutti molti dei guai il padre è questa figura un po' caschiana che ci accompagna durante la narrazione di works ed è proprio il padre invitarlo a lavorare laddove il narratore considera come è stato ricordato il lavoro un castigo o potendo si sarebbe volentieri sottratto cito direttamente da works al cospetto di quella stupida domanda che tanto spesso sarebbe ricorsa nell'arco della mia prima vita la seconda poi naturalmente sarà quella da scrittore avrei sempre detto di sì non perché abbia mai avuto davvero voglia di lavorare ma semplicemente perché ho sempre avuto necessità di lavorare per nessun'altra ragione che per guadagnarmi da vivere punto ritornerà poi questo stilema del punto per chiudere la discussione ed è stato altresì ricordato che a questa opposizione al lavoro considerato un castigo una condanna c'è poi l'etica invece del ben fatto quindi la dedizione al lavoro da portare a termine nel miglior modo possibile cito ancora da works se realizzarsi significa rendere se stessi reali del tutto istintivamente ho sempre cercato di fare esattamente l'opposto e se significa rendersi reali a se stessi peggio ancora perché ho sempre l'impressione di esserlo troppo e semmai vorrei di esserlo di meno realizzare qualcosa fuori di sé è tutto un altro discorso non c'è da rifletterci sopra più di tanto solo l'opera conta e vengo appunto all'opera l'opera postuma come ha scritto l'editore sulla copertina l'opera postuma di uno dei più grandi autori della sua generazione è uno strillo che ho subito contestato all'indomani dell'uscita perché l'italiano Trevisan non è stato un autore generazionale è stato uno dei più grandi autori del nuovo millennio tra l'altro ha esordito negli anni 90 quindi non ha punto come direbbe lui non c'è su questo discussione da fare ecco Black Tulips appunto è stato rivisto ma non completato dall'autore come ho detto si colloca cronologicamente indietro rispetto a Works e è al centro della vicenda raccontata questo tentativo di spaccio di pezzi di auto usate in Africa e tra l'altro Trevisan dice di aver recuperato queste memorie direttamente dai propri ricordi non aveva con sé un tacquino proprio per assorbire completamente le percezioni e poi farsele restituire dalla memoria è diverso se questo libro può considerarsi un attraversamento di un mondo infero o comunque di un mondo talmente diverso e minaccioso da potersi configurare con i tratti infernali tra l'altro la deuteragonista si chiama adesua non so come pronunciarlo abbreviato inade quindi è trasparente questa declinazione catabatica ecco questo attraversamento potrebbe in qualche modo rimandarci sia al Pasolini di Petrolio ma ancora prima al Pasolini di Divina Mimesis con questo attraversamento dell'ego dell'alter ego di Pasolini che ripercorre le borgate riconvertite in inferi però Pasolini dice di aver ritrovato dei fogli ingialliti a cui appunto si consegna la sua scrittura qui invece appunto è un percorso di discesa senza rete senza protezione Trevisan va in Nigeria senza come dire il supporto che so di una troupe televisiva di un giornale a cui restituire dei reportage va completamente da solo e appunto si immette in questo mondo del degradato della prostituzione e si affida totalmente ai suoi ricordi e la dimensione del tempo diventa poi decisiva anche all'interno della narrazione anche nella dimensione intradiegetica con continue digressioni rinvii a cose che poi si racconteranno e che magari effettivamente non si impeteranno però il racconto si interrompe si differisce e appunto la scusate se vado un po' su e giù ma tento di sintetizzare perché mi rendo conto che forse ho già quasi abbiamo ancora tempo il concetto interessante ancora una volta mettendo in parallelo i due autori è come si siano rapportati all'Africa Pasolini nell'Africa cerca quella genuinità contadina che non ritrovava più nelle borgate mentre Trevisan viene raggiunto dall'Africa dice a un certo punto che c'è questa statuina portata dallo zio e quindi la Nigeria arriva in qualche modo da lui e quando poi si trova in situazione cioè si trova effettivamente in Nigeria rende plastica la sua domanda di fronte a una dimensione così diversa così altra e di fronte a questa soprattutto dilatazione dei tempi e restrizione degli spazi di autonomia ecco la domanda è che cazzo ci sono venuto in Nigeria a fare e d'altra parte questo tema della prostituzione era stato anticipato da Trevisan e il suo interesse per questo mondo e soprattutto la prostituzione delle nigeriane che dice costituiscono l'infimo gradino dell'offerta in strada dei corpi ed ecco quindi le donne che passano da madri a prostitute nell'archetipo dicotomico atavico ecco ancora una volta dobbiamo parlare di libro e non di romanzo ammesso che non vogliamo assumere l'etichetta di autofiction che poteva valere anche per works ma non so quanto l'italiano Trevisan l'avesse amata ovviamente credo per nulla e tra l'altro parla di testimonianza di vita purtroppo di non più vita vita che testualmente per quanto lo riguarda non è mai diversa dall'opera e leggendolo io mi sono resa conto di come nonostante io pensi che Trevisan debba essere letto conosciuto e diffuso il più possibile questo libro secondo me può dare un'idea un po' distorta dell'ideologia perché è provocatoriamente esplicitamente dichiaratamente scorretto si presta a equivoci interpretativi rispetto all'ideologia soprattutto rispetto alle questioni del razzismo del sessismo e della misoginia che sono poi diciamo i punti più delicati di questo rifiuto che Trevisan ha del pensiero corretto del pensiero della differenza e che esplicita l'auctor Trevisan che è appunto maschio cisgender non nasconde in nessun modo la sua ostilità nei confronti del pensiero della differenza e allo stesso tempo aderisce in modo quasi francescanamente empatico alle urgenze degli ultimi per un impulso rovinoso e incontenibile e mette le mani dentro le questioni più drammatiche che riguardano tanto la vita dei singoli che le società da almeno un paio di secoli se pensiamo appunto alla tratta dei neri e delle nere quindi la sopraffazione il dominio coloniale dell'occidente predatore e la prostituzione ma non solo il grande tema è essere diversi o essere dicotomici quindi uomini e donne generi e sessi etni e razze neri o bianchi in un mondo che poi è ricompattato o rappezzato diremmo da una serie di parametri come il successo e la ricchezza e anche in Nigeria in mezzo alla più fonda sporcizia all'anomia e alla miseria i privilegiati poi hanno il box doccia in bagno e l'aria condizionata in camera però il rovescio della prospettiva orientalista viene ribadito a più riprese e lo ibo il bianco lo strano il fantasma è lui è il mio narrante e lo è prima di tutto perché lo era già strano ricorda che i truccatori dei film a cui aveva preso parte gli dicevano ti opacezziamo e Trevisan è stato l'unico scrittore italiano direi dopo Pasolini negli ultimi 40-50 anni a non sventolare il vestillo dell'accoglienza e dell'integrazione come contrattare o alternativa a quella che in Black Tulips chiama griglia vittimologica che è poi appunto una facciata di civiltà e di bontà elettiva e sposta l'ottica spostandosi fisicamente lui quindi andando direttamente a vedere sintomatico di questo rovescio dell'orientalismo è l'episodio in cui racconta di aver aspettato in paziente l'esito di una discussione che lo riguardava difficile concepire un razzismo che non sia di bianco contro nero ma viceversa siamo sempre in Black Tulips e quando capita come in questo caso uno non può dirsi che in fondo l'uomo nero ha tutte le ragioni di odiare l'uomo bianco che a guardar bene è un altro classico pensiero da Uibo il quale sentendosi superiore non solo economicamente ma anche intellettualmente e moralmente tollera e paternamente comprende ecco dicevo del rifiuto di tutti gli stereotipi sul mondo dei diversi degli ultimi e degli sfortunati che è un rifiuto integrale un rifiuto che non ritroviamo in nessun altro scrittore a me è venuto da pensare a un'autrice della poesia contemporanea della poesia francese un'autrice sperimentale che si chiama Nathalie Quentan che in un libro intitolato Stand Up dedica una sezione intitolata le preposizioni ai poveri e Nathalie Quentan tratta appunto questo tema dei poveri affidandosi alle preposizioni come possiamo parlare dei poveri lo possiamo fare mettendoci accanto ai poveri con i poveri per i poveri ed elenca tutta una serie di motivi anche in modo diciamo violento da imbettiva propriamente e tutti i motivi per cui non possiamo effettivamente dirci dalla parte dei poveri con una riflessione che probabilmente deve a Rancière o che comunque risente del pensiero di Rancière mettersi dalla parte di qualcuno vuol dire togliere a qualcuno la voce la possibilità di esprimersi ecco l'Africa di Trevisan nella sua incompostibilità col nostro mondo delle preposizioni di Quentan assume il con quindi Trevisan è con l'Africa o è in Africa ma questo con o in non equivale in nessun modo a come cioè l'alterità è integrale e ribadita ecco diciamo che gli obiettivi polemici appunto il rifiuto delle idee consolidate degli stereotipi sul mondo dei diversi e degli ultimi è un rifiuto integrale steso a tutta una serie di situazioni e di così di abitudini e di paradigmi del mondo occidentale e forse in questo il nemico comune a Trevisan e Pasolini è sicuramente il capitalismo paragone scatologico incluso la merce è merda nelle interviste sul salò di Pasolini e nel ponte la cosiddetta libertà importata dagli americani che non solo pretendono di essere seduti con il loro grasso culo americano sul mondo scorreggiando e cagandoli liberamente la loro merda americana del cazzo ma vorrebbero anche essere amati per questo e più cadano più vorrebbero cagare sempre in nome della libertà ecco lo stesso vale per i cosiddetti prodotti culturali che tanto nel ponte che in black tulips subiscono questo livellamento economicista e l'ingolfamento della produzione e fruizione a tutti i livelli viene poi equiparato a tutti i tipi di commercio lecito e nonna quindi non solo la prostituzione ma tutti i tipi di commercio seguono le stesse logiche e pongono in essere le stesse strategie dato un territorio si crea domanda saturando l'offerta e poi aggiunge in nota un riferimento a uno dei suoi obiettivi polemici che è proprio la società letteraria con i suoi riti tra cui quello dei festival succede lo stesso con i festival letterari nessuna voglia di approfondire ci basti dire che a dispetto delle buone intenzioni quelli che hanno avuto successo e vogliono durare come del resto durano devono continuare ad avere successo cioè incrementare o quantomeno mantenere stabile il numero delle presenze cioè la congestione e qui c'è una differenza invece con Pasolini che usa sfrutta assume i mezzi di produzione e di diffusione di comunicazione culturale e fa di questi un palcoscenico in modo a volte un po' contraddittorio rispetto alla sua ideologia ecco come dicevo tutto questo portato ideologico che i libri di Trevisan ci consegnano si affida a una forma che più che mai in Black Tulips diventa distante dalla sartoria romanzetto come mi è capitato di definirla ovvero non c'è plot o meglio c'è una specie di trama e di plot ma non è l'essenziale le note sono quasi in alcune pagine sono più lunghe del testo e soprattutto c'è un'esplicitazione dell'estetica del frammento o dei frantumi ecco il frammento ancora una volta unisce i due autori ricordavo che i capitoli di Petrolio si chiamano appunti ma Trevisan personalizza questa estetica del frammento riconvertendo ripeto il frammento in frantumi e in Black Tulips in particolare la lingua proprio si rastrema alla Beckett che è un modello esplicito e convocato sorprendentemente nella parte finale che poi piega verso una visione quasi elegiaca di questa condizione schiabile delle donne di strada anzi sotto la strada come dicevo prima from the shoes e questa lingua si allenta si contrae si nega e si autocancella proprio nell'atto di sdoppiarsi nella traduzione dal Pitgin e nella sua appunto perfetta padronanza che Trevisan esibisce rimane questa specie di scheletro questi snodi di senso lasciati andare a modi appunti in quella che nella poesia contemporanea si definisce la modalità del loose writing scrittura a perdere che somiglia in certi tratti di Black Tulips quasi alla voce robotica come da navigatore di Google e più toglie e più ci parla poi in effetti questa lingua dell'impotenza di fronte al dolore dell'inadeguatezza degli strumenti umani della sofferenza delle differenze delle disuguaglianze della precarietà e appunto della precarietà ma anche della malattia fisica e mentale della fatalità del desiderio di morte e del disagio di tutti e di ciascuno ecco l'ultima domanda che gli feci durante il nostro incontro che risale appunto al 2019 ovvero che rapporto avesse con i suoi libri Trevisan rispose in un modo al solito spiazzante non ho mai riletto nessuno dei miei libri non li voglio nemmeno più vedere in casa li ho nascosti e adesso sta a noi andarli a scovare o continuare a farlo uno per uno grazie 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 in questo tuo intervento il fondamento solido delle basi metodologiche delle basi della disciplina che però convive con una affabilità di enunciazione davvero invidiabile alcuni punti importanti sono stati toccati nella relazione di Gida Policastro adesso non ha senso ripercorrerli però sarebbe interessante chiedersi è vero che non si fanno coi sé questi discorsi però Black Tulips è un libro così scorretto per temi del razzismo del sessismo e della misoginia così volutamente scorretto chissà se avrebbe avuto una ricezione altrettanto pacifica con l'autore in vita torniamo a porci questa questione cioè come anche la morte cambi la prospettiva in letteratura nella ricezione dei testi peraltro citando Pasolini sarebbe forse anche interessante ricordare che è alla luce di un famosissimo pezzo di Pasolini che Trevisan si identifica come proletario il pezzo sugli studenti e poliziotti come sappiamo Trevisan era figlio di un celerino di un appunto di un poliziotto della celere ultima cosa che mi viene in mente usava studiare gli autori approfonditamente in modo sistematico quando cominciava faceva tutto appuntando leggendo rileggendo interrogando si interrogandoli e troviamo spesso tracce di questo in alcuni testi che sono praticamente dei besides diciamo per esempio la traccia dello studio di Pasolini è in un pezzo che lui consegnò a un'antologia che fu intitolata Eco e Narciso frutto di un'iniziativa della provincia di Torino che invitò alcuni scrittori sul territorio appunto perché poi ne scrivessero e lì troviamo in quel pezzo tantissime notte su Pasolini sintomo e appunto traccia di quello studio che stava facendo bene ora siamo nei tempi e io invito Simona Morando per l'ultimo per l'ultimo intervento della martinata Simona Morando insegna letteratura italiana all'università di Genova si è occupata e si occupa di parecchie cose diverse sia per quanto riguarda i generi letterari dal teatro alla prosa e alla poesia sia per quanto riguarda l'ambito cronologico dei suoi studi dalla letteratura del 5-600 in particolare Tasso e Chiabrera al 700 di Goldoni e poi al 900 con lavori su Montale Giudici Sbarbaro De Signoribus Benzoni Calvino scusate Pasolini Biamonti altri tra i suoi titoli cito una monografia del 2001 sulla poesia di Giudici vita con le parole la poesia di Giovanni Giudici Campanocchio per la biblioteca di lettere italiane ha pubblicato un segmento fondamentale dell'epistolario di Chiabrera nel 2003 sempre al 600 è dedicata la terza monografia il sogno di Chirone letteratura e potere al primo 600 lecce arco mentre di carattere filologico è il saggio dedicato a Biamonti edizione critica di Angelo di Avrigue scusate no è Giuffo Bric è in uscita un suo manuale edito da Carocci dedicato alla letteratura teatrale titolo la letteratura teatrale italiana il testo drammatico e la sua storia dal medioevo al 900 io adesso vi chiedo qualche secondo forse qualche minuto di pazienza perché dobbiamo trafficare per un powerpoint quindi abbiate un attimo di pazienza grazie grazie intanto io vi ringrazio a mia volta chi ha organizzato il convegno e chi mi ha dato questa opportunità di parlare con voi del teatro di Trevisan ma appunto come vedete i miei titoli non agevolano questo affaccio verso il contemporaneo di questo tipo e verso la letteratura teatrale dico solo che però questo libro manuale che esce proprio questa settimana proprio termina il suo il suo percorso storiografico lungo il testo drammatico proprio con un testo di Trevisan che poi questo testo e tutto quanto diremo adesso riguardo al al lavoro teatrale di Trevisan sia da considerarsi come una chiusura di un novecento o un'apertura verso il 2000 questo diciamo lo capiremo più avanti quando poi entreremo chiaramente nei testi in generale io posso cominciare anche se non c'è ancora il powerpoint giusto perché vi chiedo la cortesia di immaginare accanto a me il powerpoint no a parte il powerpoint che prima o poi comparirà magicamente è che non penso no non pensi questo è grave perché se no vabbè ma prima o poi apparirà abbiamo fiducia nella tecnologia moltissimo ma di immaginare invece accanto a me per un certo momento di questo intervento bravissimo si chiama in maniera molto banale Trevisan dovrei trovare ecco esatto poi se posso avere anche la console mi lancio anche come disc jockey una studentessa che dieci anni fa ebbe l'avventura per colpa mia ovviamente di compiere una tesi magistrale sul teatro di Trevisan e è vero Trevisan è un personaggio che ad incontrarlo era aspro ma invece la studentessa che si chiama Marta Caldon che ringrazio e saluto da qua ebbe con Trevisan una veramente una esperienza di collaborazione molto molto intensa molto efficace Trevisan non solo l'accompagnò lungo tutto il suo lavoro di tesi ma le consegnò anche testi inediti inediti allora inediti oggi come vedremo e quindi la tesi appunto che parzialmente rientra anche tra le cose di cui parlerò è una tesi che meriterebbe quantomeno una attenzione diversa allora perché parlare di Trevisan e il teatro ebbene Trevisan e il teatro non è stato chiaramente un impegno occasionale non è stato assolutamente secondario ha accompagnato tutta la sua opera scorrendo parallela e intrecciandosi a quella narrativa proprio quindi comincia uno tipo di opera ne comincia anche un altro cioè questa teatrale è noto che c'è un travaso piuttosto sistematico di testi dalla narrativa al teatro e viceversa in certuni casi è noto anche questo va bene è una slide che documenta tutto l'impegno o parzialmente l'impegno di Trevisan con il teatro poi ci torniamo su questi singoli aspetti ma ad esempio vi così sottopongo una pagina senza altro a tutti nota di Works e specificatamente del capitolo Il mondo gira in cui improvvisamente il linguaggio svolta sul linguaggio teatrale quindi a un certo punto proprio parlando di Hassan inserisce quello che chiama un breve monologo e poi la scrittura proprio diventa quella teatrale dello scrittore teatrale che a questo punto Trevisan è già diventato molto riconoscibile e riconosciuto con questa tipologia di scrittura di cui poi parleremo e addirittura anche una incursione nella didascalia che è altra cosa rispetto al periodo narrativo che Trevisan utilizza Trevisan la sua scrittura la sua fiducia nel teatro come frontiera del contemporaneo come effettivamente chi oggi sorvegli il contemporaneo da vicino sa che il teatro e la poesia rappresentano sempre come dire le punte avanzate potremmo dire della nostra lettura del contemporaneo questa sua fiducia sulla frontiera teatrale è stata spesa sia su un fronte locale che abbiamo visto in maniera così molto forte Trevisan ne tiene sempre molto presente ma anche come una proposta da spendersi su un piano decisamente nazionale ed è una proposta che intanto passa attraverso la comprensione del meccanismo dello spettacolo teatrale nella sua completezza Trevisan è un autore che conosce perfettamente come uno spettacolo funziona e come potersi inserire all'interno e dentro questo meccanismo c'è una netta importanza che Trevisan affida al testo sia esso testo effettivamente a consuntivo o a priori o partitura di testo definizione che deve stare a fianco dell'altra testo che lui chiama appositamente lavoro teatrale in più occasioni riprendendo un po' le suggestioni di Gilda e testo su cui nel momento in cui Trevisan scrive per il teatro c'è battaglia come sappiamo il teatro post-drammatico e la Gileman non danno importanza al testo teatrale nel meccanismo dello spettacolo e del teatro lo derubricano in qualche modo ma del tutto legittimamente a strumento fra gli altri dello spettacolo invece Trevisan parte dal testo parte dalla scrittura lo scrittore teatrale è per Trevisan ciò che si sente anche attribuire a se stesso e il testo che lo scrittore produce è un testo che deve essere detto deve essere utile intanto all'attore quindi siamo su una frontiera come ho già detto in cui tante esigenze vengono ad essere prese in considerazione che sono esigenze del tutto diverse da quelle che governano invece la scrittura narrativa in sé per sé Andrea Porchedu che è uno dei dramaturg oggi più riconosciuti in Italia e che ha avuto modo di lavorare anche con Trevisan ha ricordato in un suo testo all'indomani della morte di Trevisan come la sua scrittura vada sempre intesa e questo è un pensiero che condivido scevro da qualsiasi gioco intellettuale legato al teatro quindi torniamo un po' all'appello all'realismo se vogliamo da cui siamo partiti appunto con Emanuele e sempre a contatto con gli attori ecco questo è un rapporto con gli attori spesso molto conflittuale basta che ci ricordiamo le pagine di Works sul famosissimo Tony Servillo che a un certo punto viene anche proprio dichiarato Tony se ne è detto a un certo punto quindi viene tolta anche questa maschera per capire che certamente non siamo in presenza di rapporti come dire improntati a una serenità di fondo ma Trevisan parte sempre da un confronto con ciò che è utile all'attore ecco questo può dire qualcosa anche sui generi volendo da cui possiamo partire però innanzitutto secondo me è importante in questo momento ragionare su qual è il corpus drammaturgico a cui ci troviamo di fronte non è un lavoro come dire finito quello che vi presento è un lavoro addirittura da fare quindi sarebbe come dire ancora da 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 perfezionare ma abbiamo delle ottime tessere di partenza per quel che mi riguarda avevo la tesi di Marta Caldon che però era ferma al 2013 anno in cui lei si è laureata quest'estate però è uscito un ottimo saggio di Stefano Fortin Padovano non so se è in sala che ha prodotto per il castello di El Sinore una bibliografia dei testi teatrali di di Trevisan ad essa possiamo aggiungere qualcosa dovuta appunto non soltanto alla tesi di Caldon ma anche a questo libro New Writing in Italia Dieci pezzi non facili di teatro a cura di Rodolfo di Gianmarco e Martina Melandri che ha una nota biografica un testo del 2011 che ha una nota biografica non so a chi attribuibile che documenta di qualche altro testo ulteriormente quindi come vedete la bibliografia però è importante farla è importante farla anche come Matteo ha citato adesso un testo di Trevisan è importante farla anche appunto per la narrativa sicuramente ma per il teatro penso che sia urgente farlo perché probabilmente rilanciare la scrittura teatrale Trevisan su un piano nazionale può significare davvero qualcosa di importante probabilmente Trevisan non voleva incidere creare una scuola teatrale neanche con la sua neanche con la sua drammaturgia scritta però effettivamente io credo che invece le cose possano stare diversamente che la sua lezione drammaturgica possa contare per il teatro di oggi allora tre testi drammatici di Trevisan qui scorrerò un po' veloce sono slide che spero si riescano a leggere magari riesco a mettere la presentazione invece che è così un po' più grande ecco sono testi questi sono quelli pubblicati da Trevisan non tutti vedete note sui sillabari omaggio Goffredo Parise è uscito nel 2022 quindi postumo però è un lavoro su cui Trevisan come dire aveva già messo il sigillo anni prima in particolare nel 2007 e quindi come dire c'è un'autorevolezza del tutto opportuna questi sono i testi pubblicati la premessa che devo fare è che i primi tre quantomeno oscillazioni Fulvio Falzarano non compra nulla Volstar Teologia della memoria sono testi che non sono testi a consuntivo cosa vuol dire a consuntivo vuol dire che non sono testi pubblicati dopo la messa in scena dopo lo spettacolo un momento che crea sempre una sorta di frizione e di compromesso fra lo scrittore e la resa scenica è sempre molto produttivo creativo come momento ed è un momento a cui Trevisan si è attenuto con grande rispetto sempre ma questo l'ha fatto in particolare dal 2009 in poi ma i primi tre invece sono i libri famosi con cui va da quando deve incontrare l'attore famoso in works appunto Servillo e si porta dietro sicuramente questi testi quelli che vuole mostrare che sono testi scritti davvero sotto l'impronta l'influsso l'urgenza di intanto scrivere per il teatro anche con un tratto di fedeltà ai suoi maestri che sono sempre Beckett e Bernard e a cui possiamo aggiungere qualche altro maestro tipo Joe Horton e Mamet sono quelli che lui ha sempre dichiarato come vedete adesso qui va bene poi se volete vi lascio anche per un approfondimento anche come dire didattico se vi interessa queste slide sono testi che hanno poi avuto tutti una resa scenica una storia spettacolare a volte anche molto ricca quindi con più attori e più messi in scena e hanno avuto in certuni momenti come ad esempio una notte in Tunisia che mi ricordo di aver visto proprio nel 2011 con Alessandro Haber anche una forte spinta di committenza da parte di un teatro importante come in quel caso il Teatro di Milano a questo corpus definito di testi pubblicati abbiamo poi spettacoli che comportano hanno sempre comportato una drammaturgia scritta ma che ad oggi a me quantomeno poi smentitemi e ne sarò contenta risultano inediti o quasi dico quasi perché in molti casi questi testi derivano anche da un lavoro sui propri racconti sui propri brani narrativi perciò il quasi inedito chiaramente risulta in questo modo sono testi che prevedono nella quasi totalità dei casi un grande dialogo con la musica si diceva appunto della sua formazione jazz e questa risulta fondamentale anche per la resa scenica di testo più musica e anche per la composizione materiale poi della scrittura come vedremo io di questi ho visto il cerchio rosso proprio perché era stato messo in scena a Genova da Massimo Meshulam nel 2015 e però è un testo che ha ricevuto ancora prima nel 2018 ha ricevuto nel 2015 un premio appunto il premio Franco Quadri a cui Vitaliano Trevisano aveva partecipato è un testo questo importante che chiude un pochino il cerchio rispetto agli inizi della sua dramaturgia e a Worstar in particolare credo che sia un testo da riproporre assolutamente va avanti questo elenco di testi spettacoli inediti o quasi ecco qui è l'inserimento appunto delle novità rispetto alla bibliografia di Fortin dovute in parte alla tesi di Caldon proprio perché Trevisano le aveva comunicato una bibliografia a tratti più ricca e anche appunto alla nota biografica che ho trovato in coda al testo che pubblica Gianmarco come vedete in questo caso abbiamo un Trevisan spesso drammaturgo di se stesso fare una lettura scenica del ponte comporta un adattamento di se stesso una riscrittura di se stesso che non sappiamo che esito abbia avuto a meno che appunto uno non sia andato a vedere lo spettacolo di per sé comporta comunque una partitura scritta che sicuramente c'è e che però giace attualmente non so dove così come Madre con Cuscino e da altri testi di questa fase in cui Trevisano lavora molto con assurdo teatro e quindi propone appunto con questa associazione i suoi spettacoli derivano da una osmosi piuttosto diretta con grotteschi arabeschi e con tristissimi giardini come si può vedere ecco altro filone importantissimo ma di cui non parlerò più di tanto in questo momento è quello degli adattamenti uno dei primissimi testi a noi noti di Trevisano e drammaturgo è proprio un adattamento da Giulietta cioè da questo romanzo di Federico Fellini Giulietta pubblicato innanzitutto in tedesco nell'89 poi tradotto è un lavoro fatto su committenza ecco e qui appunto la parola committenza torna in maniera preponderante questi adattamenti che sono adattamenti che portano la scrittura teatrale di Trevisan messa a segno lungo i primi anni del 2000 a confrontarsi con i classici innanzitutto con Goldoni e con Shakespeare in particolare ecco sono soprattutto lavori questi dovuti a una committenza cioè Trevisan viene richiesto di adattare di riscrivere i testi per il teatro se questo è un lavoro su cui Trevisan peraltro l'ha rilasciato anche moltissime interviste quindi ha documentato di per sé questo suo lavoro personalmente la regia di Sciamma con la partitura degli innamorati di Goldoni degli innamorati di Goldoni per il teatro di Milano appunto è una come dire una messa in scena ammirevole devo dire che potete veramente guardare anche online in questo momento da proporre anche lo didattico in maniera estremamente efficace in questi testi e in particolare vi segnalo tre drammi brevi 2008 ne parleremo di questo testo iniziale Foglio Farzara non compra nulla non so se proprio l'inizio bisognerebbe scavare maggiormente anche negli altri testi ma senz'altro c'è l'apparizione maggiore di un vero e proprio personaggio che è quello di Check-in che accompagna la drammaturgia di Trevisano fino all'ultimissimo testo che è il Deiore particolare dove questa figura di Check-in è presente ed è una sorta di maschera che Trevisano mette a punto maschera di servitore quindi in perfetta linea con una tradizione veneta in cui lui si innesta profondamente e che certamente ha a che fare con l'attore Pierluigi Check-in da Righetti ma soprattutto diventa una maschera su cui poi Trevisano gioca a specchio più e più volte lungo tutta la drammaturgia questo per dire che quando Trevisano scrive per il teatro lo fa anche contro le prerogative del testo teatrale di questi anni dove il personaggio viene inventato e poi dismesso in poche parole dalla pratica attoriale e invece Trevisano del tutto controcorrente lo reinventa e lo riporta sulla scena Allora in questo frangente io davvero posso andare poi rapida e posso tagliare al momento opportuno secondo segnali che vorrete darmi in questo frangente volevo soltanto segnalarvi alcuni testi di svolta alcuni testi di svolta in particolare proprio questo testo che ho già citato Fulio Falzerano non compra niente ma viene a prendere un caffè con me che si trova in un volume non teatrale tra quelli di Trevisano ma si trova in Standards volume 1 Sironi 2002 che è un testo che noi possiamo davvero assumere come un utilissimo palinsesto di tutto quello che Trevisano diventerà come autore teatrale e anche facendo sintesi di quello che fino a quel momento lì è stato allora questo è un testo che funziona bene innanzitutto perché è scontato appunto Beckett come primissimo amore Bernard come secondo ma non meno fulminante amore della sua scrittura qui vengono utilizzati in maniera assolutamente precisa anche addirittura a calco perché il titolo stesso Fulio Falzerano non compra nulla è un calco di Thomas Bernard di uno dei trammoletti di Bernard Klaus Peiman si compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me in particolare i tre trammoletti di Bernard funzionano poi benissimo in quei tre drammi che Trevisano nel 2008 mette a segno quindi è una sorta di modello calco imitazione trascrizione insomma i termini da utilizzare possono essere davvero molti rifunzionizzazione se vogliamo dire di utilizzo del polimista Bernard che è stato in quei trammoletti come nel polimista che invece Trevisano vuole essere su un piano in questo caso locale perché sotto come dire l'occhio di questo anche di questo testo qui è proprio Vicenza la trasformazione di Vicenza in questo momento ecco in questa pagina che vi riporto di Fulvio Falzarano c'è il motivo per cui Beckett è importante per la sua scrittura teatrale appunto c'è l'appello alla realtà Beckett che ti respinge per cui ti costringe a non leggere più di due pagine al giorno della sua opera ma poi ti risucchia perché ti porta a confrontarti con la realtà mentre ecco Bernard viene documentato anche di più in questo palinsesto e quindi io assumo questo come un testo di cornice se vogliamo dire del lavoro teatrale di Trevisan ecco Bernard viene utilizzato in questo testo per dire qualcosa dei generi il lavoro sui generi non è mai inefficace porse quando si ha a che fare con i testi teatrali perché c'è sempre anche nel contemporaneo un punto di riferimento da cui partire tragedia commedia tragicommedia tutto alla fine ruota sempre intorno a questi termini da cui è impossibile sfuggire anche a distanza da Aristotele di molti molti secoli ma è impossibile sfuggire a questa griglia diciamo così e infatti anche Trevisan non sfugge e dice che con Bernard non si sa mai se si ha a che fare con una commedia o piuttosto con una tragedia fa riferimento a questa opera in particolare che sembra una commedia poi quando ci si rende conto che tutto in questa commedia è spaventosamente ridicolo improvvisamente attraverso ridicolo si fa strada un elemento tragico che sconvolge tutto spaventosamente tragico spaventosamente ridicolo il gioco sui generi è importante tant'è vero che una notte in Tunisia è definita una tragicommedia e un'altra opera è definita commedia punto interrogativo adesso mi viene a mente il titolo ma poi lo trovo commedia punto interrogativo nel senso che l'interrogativo la domanda sul genere come se la pone per Berda la pone anche a se stesso nel momento in cui scrive ha proprio un lavoro teatrale però appunto l'aspetto interessante anche in questo caso è che c'è un punto polemico qui Fulio Falzarano l'attore vero Fulio Falzarano che in questo testo diventa il direttore del teatro a licenza con Trevisan scritto così da lì in poi si farà scrivere così dice in che quale mi sono cacciato fare il direttore teatrale in una città che non sa che cosa sia il teatro una città in cui il teatro è stato distrutto fisicamente spiritualmente prima fisicamente poi spiritualmente prima dalle bombe americane poi dai registi megalomani poi dai monologhi poi il cosiddetto teatro di narrazione e insieme ai piccioni crescendo o non crescendo che dobbiamo chiaramente capire ma che ci permette però di individuare il punto polemico della scrittura teatrale di Trevisan appunto il cosiddetto teatro di narrazione che è una partita assolutamente importante punto polemico fondamentale per la messa a segno dello stile del Trevisan drammaturgo nel momento stesso in cui il teatro di narrazione ha l'ambizione innanzitutto di incidere sulla coscienza dello spettatore sulla sua capacità di lettura del presente obiettivo che invece il teatro di Trevisan non si pone minimamente essendo per lui impossibile incidere effettivamente sulla coscienza misterioso oggetto di cui è impossibile parlare per lui e tantomeno sulla coscienza civile dei spettatori non è un obiettivo questo che Trevisan si pone in più il teatro di narrazione è un teatro che a dispetto del suo nome che infatti è maldetto proprio per questo motivo è un teatro che non punta sul testo scritto Ascanio Celestini più volte l'ha detto si deve registrare e poi sbobinare per scrivere il testo altrimenti è tutto un teatro di orazione imparato a memoria da attori appunto quali sono e poi detto è infatti un testo duttile mobile può cambiare di sera in sera in più e questo quindi è un altro punto del tutto distante da quello da cui parte Trevisan che invece ruota sulla definizione di come si scriva un testo teatrale innanzitutto anche prima ancora che le scene lo accolgano e poi l'altro aspetto non da meno dal punto di vista polemico è che il teatro di narrazione si fonda si basa su attori che passate in il gergo ci mettono la faccia pensate a tutte le volte che Celestini sempre compare nelle copertine dei suoi libri quindi l'attore dal profilo assolutamente riconoscibile che quasi sta davanti alla sua opera ecco Trevisan fa un lavoro completamente opposto ovviamente fa un lavoro in cui semmai diventa attore della propria partitura ma questa è tutta un'altra questione però insomma questo è il punto polemico importante perché ci aiuta a collocare la dirompente azione della scrittura teatrale Trevisan in un contesto che invece nel teatro va a cercare altro in questo momento ecco in tutto questo ovviamente ed è la seconda riflessione che vi pongo la prima appunto dovuta a quel testo palinsesto ai modelli è la ricerca della scrittura quindi come si scrive un testo teatrale questa domanda Trevisan se la pone lungo tutta la sua opera e ad un certo punto identifica il suo stile e non lo abbandona più indubbiamente all'inizio cioè nelle primissime opere quelle che precedono la messa in scena dal 98 al 2002 c'è una presa in carico molto forte della prosa la prosa diventa come dire la scrittura per eccellenza per in quel momento del lavoro teatrale ma poi la prosa lascia certamente il passo all'elaborazione di un testo che non possiamo definire poetico adesso ce lo facciamo dire direttamente dalle sue parole ma da un testo franto che certamente ha a che fare con la componente jazz di cui abbiamo già detto ma ha a che fare anche proprio con l'utilità pratica da spendere sul palcoscenico quindi questa è una affermazione che Trevisan fa sempre tratta da questa intervista che concesse a Marta Caldon per la tesi di laurea che si trova appunto in fondo alla tesi e dice c'è questa componente musicale nei miei testi però è tutto rotto anche musicalmente vicino alla musica contemporanea non è dodecafonia però non esclude l'aspetto melodico che ci può essere e questo aspetto melodico infatti c'è un aspetto che qualcuno definisce poetico ma a me non piace tanto meglio melodico meglio far riferimento alla musica che alla poesia quindi questo è un aspetto importante per cui non possiamo definire la scrittura di Trevisan drammaturgo teatro teatro di poesia questa è una definizione da cui rifuggire adesso però ce lo dirà lui direttamente proprio fortemente Gianmarco stesso definiva una partitura ritmica impassibilmente alienata oscillazioni ecco e appunto qui dice della sua distanza rispetto al teatro di poesia che lo stesso Gianmarco aveva ipotizzato e dice la scrittura frammentata deriva anche da una questione pratica gli attori si trovano bene che è la frase che ho utilizzato proprio per questo intervento intanto si isolano bene le parole lasciando molto spazio anche per gli appunti una cosa che non è scontata se invece compatti tutto con le virgole e i punti diventa anche difficile da leggere infatti progressivamente sparisce tutta la punteggiatura dalla scrittura di Trevisano quindi l'attore può inserirsi di più nel testo aggiungendo pause respire intonazioni sì magari anche per sbaglio magari l'attore interpreta qualcosa come una domanda che per me non lo era e invece poi viene meglio questo tipo di scrittura lascia più spazio secondo me e confonde meno perché poi i punti le virgole i punti e virgole i due punti è sempre molto relativo al loro valore anche dal punto di vista musicale per cui è meglio togliere sicuramente non considero le mie battute dei versi perché non scrivo poesie lascio volentieri alla Gualtieri la poesia teatro va bene questa è una delle mille che ci sono in questa intervista non pubblicabile probabilmente anche quello mi annoia molto devo dire ma tutti insomma ma non è una cosa da poco comunque prendere le distanze dal teatro di poesia perché se vi ricordate dico quelli più ecco con i capelli bianchi come me tra gli anni 80 e l'inizio anni 90 c'è stato un grande momento del teatro di poesia c'è stata delle scritture di Dante da parte di Sanguinetti Luzi Giudici la messa in scena di Federico Tiezzi Tiezzi stesso che teorizza sul teatro di poesia Pasolini alle spalle il teatro di poesia insomma c'è una lunga tradizione su questo su questo aspetto ecco Trevisan dice la sua e quindi scrive in versi non versi in battute potremmo dire finire battute che è una parola che va bene sia con la musica che con altro che col teatro però non è non è poesia allora ultimissima cosa se ho tempo però ditemi se ho tempo ecco vi indico proprio come primo avvio dei lavori però davvero qui proprio il caso tipico per una tesi questa potrebbe essere una tesi da fare appurare proprio il momento di svolta in cui Trevisan dalla prosa dal teatro che si scrive in prosa a proda a quello che si scrive in battute ritmiche chiamiamole così magari più facile attraverso il primo testo oscillazioni oscillazioni è un testo importantissimo lo è perché è il primo testo teatrale a noi noto chiaramente che lui pubblica nella seconda edizione di Trigo senza il pianoforte del 1198 a cui aggiunge appunto nel titolo oscillazioni proprio perché inserisce questo lavoro teatrale ma è talmente importante che voi se scorrete le pagine dell'ultimo romanzo postumo Black Tulips trovate ben due pagine un estratto molto ampio di oscillazioni con ulteriori varianti quindi con oscillazioni si riesce davvero a coprire col mare a ripercorrere sostanzialmente il teatro di Trevisan in qualche maniera la sua scrittura le varianti di Black Tulips che poi ho messo nell'ultima slide sono varianti poi soprattutto di tipo prosodico di tipo ritmico di tipo di nuovo melodico se vogliamo dire allora è un testo che con Black Tulips c'entra perché il nodo da cui parte è proprio quello il tema della prostituzione della prostituzione a Vicenza e quindi la mutata geografia vicentina in base alle etnie delle ragazze che passeggiano lungo i viali e quindi il punto di contatto per ripercorrere oscillazioni in ultimo romanzo è proprio quello poi in realtà oscillazioni come testo teatrale di per sé va a esplorare un tema anche diverso che sono temi sempre ossessivi quindi torniamo al tema della maternità non voluta il tema della famiglia non voluta torniamo a quel tema lì al suicidio torniamo anche a quello e quindi si ruota sempre intorno a questi grandi temi di Trevisan però è un testo appunto su cui che va in scena moltissime volte e che lavora per Trevisan davvero di complicità rispetto alla messa in scena e quindi quando va in scena lo modifica proprio per questo per questo motivo nella prima versione del 1908 oscillazioni è scritta in prosa in prosa con didascalie in corsivo come opportuno è un monologo questo vuol dire che l'attore in scena la voce che si scrive è una voce che si rivolge al pubblico in quel caso quindi a un interlocutore vedete sentirete quindi si rivolge direttamente al pubblico e questo non è un particolare da poco è una prosa assolutamente piena come potremmo trovarla contestualmente nella sua nella sue prove di esordio narrativo il testo invece che Trevisanne scrive per la messa in scena con Falzarano del 2006 che poi approda alla stampa con i Nauti nel 2009 insieme a RH solo RH è un testo già improntato a questa scansione ritmica come ce la siamo un po' detta ed è un testo che sfronda moltissimo tutti tutti gli approfondimenti che il testo del 98 aveva il testo del 98 ad esempio aveva tutto un approfondimento su Wittgenstein che qui salta complessivamente Wittgenstein che rimanda a Bernard alla fine ma che qui salta completamente e anche dal punto di vista ideologico potremmo dire l'aggancio del primo testo con affabulazione di Pasolini giusto per stare in tema è un aggancio molto più visibile il tema cioè del padre che uccide il figlio che per Pasolini è un tema ideologico quello è un regicidio perché tu elimini un borghese successivo che diventerà il padrone domani ecco questo elemento qua sono d'accordo con quello che diceva Gilda viene eliminato questo tema ideologico proprio si tratta di un tema sociale esistenziale potremmo dire quindi eliminare la famiglia e il figlio che comunque in ogni caso ti ucciderà diciamola così lui la gioca almeno su questo piano ecco e quindi al di là di questo quindi viene anche dimensionato questo portato pasoliniano certamente per dare più spazio al vero modello di riferimento di oscillazioni che era già implicito in questo titolo nel 98 ma che qui diventa assolutamente smascherato anche dall'adozione di questa scansione ritmica che è Rockabye di Beckett stesso che è un testo dell'81 un testo fondamentale dell'81 e che porta oscillazioni a diventare come in quel caso non un monologo ma un soliloquio cioè in questo caso è il delirio del personaggio lucidissimo del personaggio da solo con se stesso quindi interessante monologo esteriore ecco qui invece siamo a una progressiva interiorizzazione questo è di fatto proprio un soliloquio senza posta di comunicazione esterna se vogliamo dire con questa evidenza fondamentale del modello di Beckett che viene anche ripercorso da questa da queste riprese da questi ritornelli della prosodia ritmica che in questo caso è su e giù mentre il verbo to rock rock by appunto di Beckett ritmava quel tipo di testo ecco qui vi presento soltanto ma così a livello molto di esempio qualche differenza a partire proprio dall'ingresso del testo il testo teatrale comincia nel momento stesso in cui si elencano i personaggi e si dice del luogo o degli oggetti che sono presenti sulla scena questa è già la scrittura d'ingresso non è una parte avantestuale è proprio già l'ingresso del testo su questa già lavora Trevisan tra il 98 e il 2009 il personaggio uomo 35-45 anni diventa a man in his forties anche proprio per stare più non soltanto sul gioco sempre inglese italiano a cui Trevisan ci abitua ma anche per stare più vicino a Beckett e la scrittura più forte come vedete è sulla didascalia di iniziale in cui gli oggetti devono prendere una dimensione molto concreta e in particolare la scrittura degli oggetti armi che sono protagonisti coprotagonisti possiamo dire della scena insieme al solo personaggio con il suo soriloquio qui soltanto un piccolo esempio di come lavora sulla prosa che viene trasformata appunto in partitura ritmica in cui come vedete tiene quasi tutti gli elementi ma in particolare questa politemia di tacchi battuti sull'asfalto che ovviamente ho sbagliato a scrivere asflato ho scritto va bene diventa una chiusa di questo passaggio di questa prima battuta del personaggio che stacca da come come dire l'accento perché è decisamente come dire che non mi ascolta poetico politritmia di tacchi sull'asfalto rispetto all'andamento della battuta di per sé quindi dà proprio una svolta di tipo ritmico ma anche di senso al testo e no questo l'ho visto ecco e qui invece sono le successive le successive variazioni rispetto a Black Tulips Black Tulips fa semplicemente ma non è intanto semplicemente una ancora una frantumazione ulteriore del ritmo e quindi spezza ulteriormente i versi così come appaivano nel 2009 ancora di più finisco con questa to do list visto che mi è stato detto cosa si può fare per gli zan allora è sempre molto difficile ovviamente dare questo tipo di indicazioni ma quello che mi piacerebbe vedere diciamo così da qui a poco è una bibliografia completa questo penso che valga per tutto Trevisan ma visto che mi occupo di letteratura teatrale dico mi limito a dire delle scritture teatrali di Trevisan che possa comprendere anche una bibliografia completa io penso che sia forse non completissima quella che ho io e di cui dispone anche Furtini probabilmente la cosa più importante che deriva da questo primo censimento a mio avviso è una edizione dei testi originali messi in scena ma non pubblicati come avete visto non sono pochi e in particolare mi riferisco ecco io questi gli spettacoli testi inediti questi che finiscono con il cerchio ecco con il cerchio rosso in mezzo e questi forse più di difficile reperimento però innanzitutto questi davvero sarebbero tassi da vedere da vedere a stampa in qualche modo speriamo poi affrontando le eventuali come dire diffidenze arrabbiature che il mondo può comportare di questo tipo ecco sarebbe interessante davvero raccogliere delle testimonianze del mondo dello spettacolo di grandi attori che hanno lavorato contro i visani perché si parla di grandi attori di grande livello quindi questo sarebbe da fare anche con una tesi magistrale dottorato ovviamente senza escludere i musicisti che hanno avuto un ruolo fondamentale nella collaborazione teatrale con Trevisan e poi molto citate da lui nelle interviste e però non so se esistenti le famose lezioni di drammaturgia so che lui faceva questi corsi di drammaturgia ecco queste lezioni ci saranno non ci saranno sarebbe preziosissimo reperirle che sarebbe a mio avviso una grande lezione per appunto dare quel peso da cui sono partita di questo teatro fine novecento inizio duemila forse qua potremmo sbilanciarci davvero verso questo nuovo secolo e perché no una pubblicazione delle interviste di Trevisan che parla del suo teatro perché differentemente credo rispetto alla sua opera narrativa qui Trevisan è stato sempre molto generoso nel definire nell'approfondire nel offrire riflessioni sul suo lavoro teatrale quindi in questo caso penso che potrebbe essere davvero molto interessante fare un bel censimento e anche una pubblicazione delle cose che lui ha detto sul suo teatro e poi da fare completamente un registro sulla bibliografia critica dalla recensione allo studio penso che siano davvero pochi gli studi saggistici sul teatro di Trevisan ad oggi perciò buon lavoro bene allora grazie a Simona Morando per questo importante contributo che porterà che può portare a una prima sistemazione e a un bilancio dell'opera teatrale di Trevisan credo che Tobi ha fatto benissimo a parlare di un travaso costante che c'è tra narrativa e teatro il motivo a volte era anche il tentativo talvolta riuscito di vendere lo stesso lavoro due volte a due committenti diversi insomma sono poi questa cosa si nota soprattutto da works quando le barriere crollano e tutti i generi entrano nell'opera che appunto come ha detto Gida Pol di Castro è soltanto un libro non è più né un romanzo né un saggio ora mi scuso molto ci sono due cose che deve fare il moderatore dire i nomi degli ospiti e i titoli delle loro relazioni io metà non ho fatto cioè adesso mi scuso ripeto riepilogo i titoli delle nostre relazioni Simona Morando gli attori si trovano bene la scrittura pratica di Trevisan per il teatro Gilda Pol di Castro scrivere un saggio sulle madri Pasolini e Trevisan Emanuele Zinato l'inventiva ambivalente Trevisan polemista del resto bene o male i titoli si erano tutti ecco io visto che c'è qualche minuto forse prima del pranzo chiedo le persone in sala se ci sia qualcuno interessato a porre domande le questioni ai relatori e le attrici questa mattina visto che poi sono qua disponibili oppure se ci sono interventi il microfono è a vostra disposizione mi viene in mente una cosa sugli adattamenti gli adattamenti potevano essere brutalmente attualizzanti per esempio la bancarotta di cui è stata data la prima a due passi da qui alle Maddalene lasciando tutti appunto brutalmente colpiti non per niente lo stabile del Veneto se ne era interessato ma non ha fatto nulla era di una violenza dirompente sì però nel turpiloquio aveva caricato molto in quel caso va bene puntualissimi direi sono le 15 a 01 riprendiamo i nostri lavori è stata una mattinata molto interessante con interventi anche diversi su diverse problematiche relative all'opera di Vitaliano Trevisan e il pomeriggio si annuncia altrettanto interessante io ho conosciuto Vitaliano Trevisan si fa per dire insomma in un incontro ero molto giovane sui 15 16 anni una cosa così in un incontro in una libreria vicentina la famosa Librarsi non so se qualcuno insomma la ricorda qualche vicentino lui faceva avevano organizzato un incontro con Stefano Strazzabosco altra insomma figura forse nota e parlavano di Kafka parlavano di Kafka e lui era già un personaggio dei suoi libri in qualche modo in qualche modo era già Thomas non so se vogliamo dire così ma a ripensarci se davvero lui era già Thomas era già in qualche modo un personaggio anch'io devo essere stato un personaggio dei suoi libri e anche qualcun altro di noi in questa in questa sede un personaggio sullo sfondo di quel paesaggio vicentino che è metafora e allegoria insomma di tutto ciò che il italiano Trevisan faceva resistenza dire che ho imparato molto su Vicenza e sulla vicentinità da lui da quello che ha scritto è dire davvero troppo poco il mio affetto per Vicenza è viscerale e inscalfibile ma il suo odio o che non era in realtà odio insomma ha reso più ricco il mio affetto il mio amore per la mia città natale e così è stato sono certo per molti dei miei concittadini quindi ritornare a Vita di Nontrivisan è fare i conti con il mio passato ma non solo è capire qualcosa di più di quello che sono adesso della mia posizione diciamo così in questo mondo così storto che abbiamo attorno a noi non tutte le ragioni aveva l'italiano Trevisan e non tutti i torti avevo io diciamo però le sue ragioni suonano con una musica e un'energia a cui io non so evidentemente come ribattere e dunque continua ad ascoltare quel suo ritmo quella sua prosa incantatoria insomma che che continua a raccontarmi di quello che sono stato e di quello che sono e diciamo ho aperto con questo ricordo Vicentino perché il primo relatore di oggi è insomma non so quanto ancora legato alle sue origini ma insomma anche lui è originario insomma di Vicenza cioè Luca Letterati che insegna filosofia teoretica all'Università di Padova e si è occupato di tante cose di problemi relativi alla filosofia classica tedesca e del rapporto tra filosofia e scienza nel pensiero di Kant di Hegel e di Heidegger inoltre l'interesse per la scienza l'ha portato ad occuparsi anche del concetto filosofico insomma di natura dei concetti di vita e organismo e quindi in particolare del rapporto tra filosofia e scienze biologiche e anche sul filo di questi di questi temi è stato anche nostro compagno in alcuni convegni proprio che si occupavano del rapporto tra letteratura e scienza inoltre ha sempre accompagnato questa mi sembra una cosa da sottolineare l'interesse per la filosofia teoretica insomma ha un interesse una sensibilità alla dimensione didattica della filosofia insegnamento che tiene anche qui a Padova regolarmente da questo punto di vista ha anche diretto in corso di perfezionamento e metodologia dell'insegnamento filosofico presso il nostro Ateneo le sue pubblicazioni sono veramente numerose e spaziano tra monografie dedicate ai singoli autori e ai singoli pensatori su cui naturalmente Hegel e altri e monografie che invece testimoniano più da vicino i suoi interessi come fra tecnica e natura problemi di ontologia del vivente in Heidegger nel 2002 natura e ragione sullo sviluppo dell'idea di natura in Hegel del 2008 e anche monografie sono quindi studi specifici dedicati proprio all'insegnamento della filosofia come insegnare filosofia modelli di pensiero e pratiche didattiche del 2007 ma non è solo interessato diciamo così alla filosofia perché è un intellettuale a tutto tondo con interventi su blog riviste sia appunto online sia non online su tanti ambiti legati all'arte naturalmente alla riflessione teorica legata all'arte al cinema e anche alla vita universitaria lo chiedo cortesemente di venire al tavolo ecco il suo intervento su Trevisan si intitola L'Io la scrittura prego grazie grazie mille grazie per la presentazione e grazie soprattutto agli organizzatori di questa giornata e per avermi invitato a partecipare a questa giornata che mi sembra essere davvero una giornata importante per molti motivi io vorrei dirvi qualcosa sulla questione dell'Io nella scrittura di Vitaliano Trevisan ovviamente quello che dirò lo dirò da un punto di vista per così dire del lettore nel senso che io non possiedo gli strumenti della critica letteraria della teoria della letteratura o della storia della letteratura e quindi è un punto di vista un po' esterno quello che vorrei proporvi dunque la questione dell'Io nella scrittura di Trevisan che è questione enorme per molti versi connessa come è evidente alla questione della prospettiva quello che dirò sarà una cosa piccola e cercherò di avvicinarmi vorrei dire da fuori anche attraverso qualche comparazione tra Trevisan e altri scrittori in questo percorso di avvicinamento intendo muovere innanzitutto da un famoso saggio di Ingeborg Bachmann sulla scrittura in prima persona si tratta di una delle cinque lezioni che Bachmann ha tenuto nel 59-60 all'università di Francoforte che poi la Bachmann stessa ha letto alla radio bavarese nel 1960 le lezioni avevano un titolo generale che era problemi di poetica contemporanea la lezione dalla quale vorrei assumere l'inizio di questo percorso si intitola invece l'io che scrive dice Bachmann vorrei parlare dell'io della sua presenza nella letteratura e quindi delle faccende dell'uomo nella letteratura nella misura in cui l'uomo si rivela tramite un io o tramite il proprio io oppure si cela dietro l'io già in queste prime righe che sono proprio l'inizio del saggio di Bachmann emerge una dimensione ambigua dell'io l'io della letteratura ma potremmo dire l'io in generale è insieme luogo di rivelazione e di nascondimento dell'umano l'io è certo il modo in cui l'umano dice se stesso spesso diciamo che l'essere umano è l'animale che dice io ma è anche ciò dietro la cui maschera l'umano si nasconde come se dire io essere in grado di dire io con tutto quello che un tale gesto implica non ultimo il muoversi dentro una certa grammatica e un certo linguaggio fosse anche in qualche modo una possibilità di occultare magari mettendolo in forma il sé e questo movimento che è sempre insieme di svelamento e velamento io credo sia per molti versi all'origine della pratica letteraria l'io letterario dice Bachman non è mai un io immediato tant'è che esso tende per lo più ad assumere la forma dice Bachman di un io cartaceo retorico che non offre garanzie se non quella di dirsi io in letteratura secondo Bachman esistono cito molti io e nessun accordo sull'io se questo vale per la letteratura in generale ciò che caratterizzerebbe la letteratura degli ultimi anni degli ultimi decenni dice Bachman e ricordo che siamo alla fine degli anni 50 è la presenza di un io che si fa ogni giorno cito più scatenato e ammagliante come se in suo onore scrive ancora Bachman cito si fosse organizzata una carnevalata durante la quale nei suoi abiti buffoneschi l'io potesse dichiararsi o dissimularsi o dissimulare mutarsi o svelarsi in quanto tale questo io che è al tempo stesso qualcuno e nessuno naturalmente bisogna intendersi quando si cerca di dire io in letteratura l'io della letteratura dice Bachman non è mai un io garantito l'io della letteratura può essere un io fittizio oppure può essere un io mascherato oppure ancora un io ridotto l'io lirico assoluto o ancora l'io come figura del pensiero come figura dell'azione un io immateriale o un io che si è fatto materia gli autori sui quali si sviluppa l'analisi di Bachman sono Arthur Miller Céline questi due accomunati da Bachman come tentativi selvaggi e spericolati di portare in un libro la propria persona la propria vita senza mediazione alcuna nobilitati solo in questo ingenuo tentativo secondo Bachman e nobilitati soprattutto in Céline dalla potenza della lingua dalla potenza della scrittura e poi Gide Tolstoi Dostoevsky Svevo la cui concezione dell'io dice Bachman consente un modo di trattare il tempo da annoverare tra le prestazioni poetiche pionieristiche di questo secolo ovviamente poi Proust per giungere infine a Samuel Beckett che a noi qui per ovi motivi interessa molto nell'io di Beckett dice Bachman sono venuti meno non solo personalità o addirittura identità costanti dell'essere storia mondo circostante e passato tutto questo viene meno nell'io di Beckett vorrei che tenessimo presenti queste parole e concetti di cui l'io becchettiano sarebbe secondo Bachman lo svuotamento identità costanti dell'essere storia mondo circostante passato perché l'io della scrittura di Trevisan ha certo a che fare con lo svuotamento di queste parole concetti ma è uno svuotamento ed è questo quello che vorrei in qualche modo provare a sostenere che avviene attraverso una radicale esplicitazione di essi e cioè proprio dell'identità delle costanti dell'essere del mondo circostante il paesaggio e la periferia diffusa il passato la storia di cui siamo l'esito più o meno abortito tornando a Bachman il panorama letterario a cui la scrittrice austriaca si riferisce è essenzialmente quello che va dagli anni venti agli anni cinquanta del novecento ovvero un panorama culturale letterario segnato da quel fenomeno che è stato catalogato come crisi dell'io il passaggio per dirlo con una bellissima espressione di Bachman da una letteratura in cui l'io è nella storia a una letteratura in cui è la storia che è nell'io beh in questi anni dice Bachman lo scatenamento dell'io di quella letteratura è abissale e tuttavia quello scatenamento non può non apparire a noi oggi e cioè rispetto a quella presenza dell'io nella letteratura contemporanea che ad esempio Donnarumma ha definito la stregua di una pandemia come un'esclosione quella degli anni dagli anni venti agli anni cinquanto tutto sommato controllata e persino pudica l'esplosione dell'io nella letteratura contemporanea può essere ovviamente letta in molti modi e non da ultimo come uno dei riflessi di quella più generale ideologia dell'io con connessi quei processi di personalizzazione che può assumere tratti testimoniali tratti narcisistici tratti vittimistici o anche banalmente tratti mercantili che sembrano in effetti caratterizzare non poche manifestazioni della vita contemporanea l'onnipresenza dell'io nella letteratura contemporanea è stata non a caso interpretata come l'evidenza del dominio di una tendenza perversamente narcisistica e per molti versi regressiva un nuovo dilagare ha scritto Matteo Marchesini dell'io romantico nel senso in cui lo intende René Girard nel suo menzogna romantica e verità romancesca una letteratura ormai ignara della tradizione moderna scrive Marchesini rinasce come strumento e certificato di esistenza nella tendenza generalizzata all'autofinzione che sembra caratterizzare in modo niente affatto marginale il mondo contemporaneo il panorama letterario contemporaneo l'identificazione tra autore e narratore produrrebbe nuovamente la menzogna romantica in quanto la visione del mondo che ci sarebbe consegnata nell'identificazione fra autore e narratore mancando di una dialettica che è in grado di relativizzarla dice Marchesini non contraddice quella del portavoce ma anzi la rafforza la moltiplica facendo così trionfare il soggetto su una realtà troppo poco resistente per poter fare attrito con la sua azione e trionfa questa soggettività anche e forse soprattutto quando il soggetto si presenta come sconfitto dato che risulta immancabilmente nella sua sconfitta più nobile degli avversari in cui si imbatte nel proprio cammino i bersagli polemici di Marchesini sono Antonio Moresco e Francesco Piccolo il primo quale esempio di una sorta di danunzianesimo sovrastorico ovvero caratterizzato da un'estasi estetizzante di chi si immerge nel brulichio dell'universo in decomposizione per redimerlo il secondo invece piccolo esibendo una accettazione della realtà così com'è che non si prende però né la responsabilità del cinismo aperto né quella del fatalismo triste e in cui dunque l'identità non subisce scosse e in cui anzi il velo della presunta inadeguatezza non serve se non a far risaltare la sua maggiore umanità di una tendenza narcisistica è stato talvolta accusato anche un autore come Tiziano Scarpa in realtà a me sembra l'io per Scarpa ha più le forme di una resistenza dell'individuo all'omologazione e dunque al potere nelle varie forme che esso assume dire io per Scarpa è un modo cioè per evitare qualsiasi io ideal tipico l'io che scrive e si espone non è mai cioè banalmente il rappresentante di qualcosa d'altro rispetto a sé sia questo altro la società l'epoca o una qualche condizione esistenziale l'io della letteratura non può mai essere ridotto dice Scarpa con un'espressione che a me pare efficace a bestiolina d'allegoria l'io è in grado di attingere l'altro anzi si scopre come un impasto di altri ed è perciò in grado di coinvolgere davvero l'altro nella sua scrittura solo se aderisce pienamente dice Scarpa al proprio punto di parola ed è solo a partire da questo radicamento materiale ovvero dalla sua specifica individualità che lo scrittore può dire quella verità che l'ipocrisia sociale dentro la quale è immersa la nostra vita invece impedisce di dire l'operazione di Vitaliano Trevisan per quanto certamente diversissima da quella di Scarpa ha però qualcosa in comune con essa e questo elemento problematico in comune è la connessione tra l'io che scrive e la questione della verità verità per inciso che come dice Trevisan in un suo testo la verità ovviamente c'è solo che è sempre in esilio una connessione quella tra l'io che scrive e la questione della verità ed è qui io credo la potenza dell'operazione becchettiana di Trevisan che a sua volta implica una forma di decostruzione dell'io medesimo ovvero dell'io come origine dell'artificio prospettico la verità scrive Trevisan nel brano da cui è tratto il titolo di questa giornata se per verità si può intendere la causa prima di tutti questi problemi infiniti è che non sono mai stato in grado di pensare in prospettiva come si dice né verso il futuro né verso il passato e meno ancora sono stato e sono in grado di pensare me stesso in prospettiva lo scrittore sempre Trevisan che parla non è in rapporto prospettico con lo scrittore in cui gli piaccia oppure no si è effettivamente voluto ed è le modalità con le quali il soggetto si è mosso nel tempo e nello spazio nel suo ambiente e fuori di esso o meglio nei suoi vari ambienti e fuori di essi sono sempre state dettate dalle contingenze le quali dovendo moltissimo al caso non permettono di rendere il suo percorso in metafora prospettica in definitiva chiude Trevisan che io guardi in avanti o indietro sono stato resto sarò e sarò stato un uomo privo di qualsivoglia prospettiva la prospettiva e con essa l'io che ne è il fondamento seguendo la grande lezione di Panofsky alla quale Trevisan si attiene è a sua volta per Trevisan negazione della vita e quindi ancora è necessariamente negazione della verità in qualche modo c'è una sorta di pratica sillogistica in questo la prospettiva nega la contingenza negazione della contingenza significa negazione della vita negazione della vita significa negazione della verità credo sia dentro questa dinamica di deviazione dal fuoco prospettico che va letta l'ossessione di Trevisan per la precisione ossessione wittgensteiniana prima ancora che bernardiana l'attenzione nei dettagli il delirio del particolare la cura per la materialità delle cose l'io di Trevisan è un io totalmente assorbito nella contingenza e in questo assorbimento ovvero in questo disperato essere insieme e sempre dentro di sé e fuori di sé essere sempre e insieme interno ed esterno è autonegazione dell'io che però solo un radicamento dell'io può produrre Trevisan è certamente figlio della tradizione moderna di crisi dell'io in primis di Bernard e di Beckett ma porta questa tradizione a un livello di radicalità che a me sembra inedita in quanto fa dell'esposizione della contingenza dell'io e dell'io nella contingenza la strada necessaria per la liberazione da quella dimensione prospettica che fa dell'io il fondamento della realtà e della vita credo che questa dimensione è straordinariamente contraddittoria per cui l'io che scrive è a un tempo l'io che rifiuta la prospettiva i miei occhi non sopportano più la prospettiva scriveva già nell'epilogo a Il Ponte che questo elemento per cui appunto l'io che scrive è l'io che rifiuta la prospettiva sia l'elemento che mi verrebbe da definire autenticamente tragico del lavoro di Trevisan e credo che questo elemento tragico sia la cifra più profonda della sua scrittura quella che produce una energia tesa sempre irrisolta e sempre necessariamente polemica nel senso proprio originario del termine di polemos di sempre in guerra sostanzialmente che segna la scrittura di Trevisan cifra tragica resa possibile almeno così a me pare dal fatto che la scrittura di Trevisan è sempre una scrittura che si pone sul limite la sua scrittura è sempre dentro il mondo che dipana dentro la materialità del mondo dentro le contraddizioni del mondo dentro i tentativi di mascheramento di queste contraddizioni che sono propri del mondo e tuttavia è sempre anche contemporaneamente fuori da esso sia dentro sia fuori il che significa sia né dentro né fuori che poi forse è a pensarci ma questo è il luogo nel quale abita la letteratura che è sempre insieme e contemporaneamente dentro e fuori dalla vita dentro e fuori del mondo io credo che sia per questa capacità per questa sua capacità di camminare sul limite e l'uso del verbo camminare nel caso di Trevisan non ha ovviamente nulla di casuale che questa sua capacità di camminare sul limite di stare sempre in quel limite tra il dentro e il fuori né dentro né fuori sia dentro sia fuori ciò che fa di Trevisan uno degli scrittori più formidabili nel far parlare il reale nel dire la realtà ovvero nel dirla come ha mostrato il mio amico Sergio Bozzola in un saggio che dovrebbe uscire a breve che ho potuto leggere recentemente attraverso la stessa grammatica e la stessa sintassi ovvero come dice Bozzola a proposito di un testo paesaggistico di Trevisan la mostruosa congerie sintattico tematica corrisponde a quella del paesaggio suburbano rappresentato Trevisan sa sempre dove si trova lo sa fisicamente lo sa linguisticamente lo sa sintaticamente a cioè una consapevolezza radicale del suo essere situato e proprio per questo per questa strepitosa patologica consapevolezza è sempre in grado di guardare la situazione dentro la quale si trova immerso anche da fuori suonerà strano scrive in tristissimi giardini ma il fatto è che ho sempre ben presente il suolo che calpesto forse perché cammino tanto ovunque io sia e camminando sto attento a dove metto i piedi sarà che vado spesso e volentieri in moto e anche lì bisogna stare tanto tanto attenti a come e dove si mettono le ruote e a tutto ciò che succede intorno sarà che non prendo l'aereo se non quando strettamente necessario ovvero finora in tutta la vita non più di una decina di volte o non saranno queste alcune tra le tante conseguenze piuttosto che le cause di una sorta di atteggiamento non saprei come altro chiamarlo che mi porta sempre ad aver coscienza della mia gravità e del suolo che mi sostiene tutta la mia attività si fonda su questo fine citazione Trevisan cioè è sempre dentro la realtà ma lo è in un modo tale da riuscire sempre a guardare quella realtà da un punto decentrato marginale liminare ed è questo ciò che impedisce a Trevisan di essere ideologico ovvero per Trevisan prospettico Trevisan non è ideologico se così posso dire perché sa di appartenere a un mondo che rifiuta ecco un'altra delle declinazioni dell'essere sia dentro sia fuori né dentro né fuori e cioè la dialettica tra appartenenza e rifiuto in effetti a ben vedere e lo dice lo stesso Trevisan si può rifiutare solo il luogo a cui si appartiene si può rifiutare solo il luogo a cui si appartiene come a dire che il rifiuto è davvero tale se e solo se è rifiuto di ciò a cui si appartiene questa dialettica di appartenenza e rifiuto è evidente nel rapporto con Vicenza a cui faceva accenno prima la mia città che non è mai stata mia o ancora dal ponte la mia terra la mia lingua la mia cultura niente di tutto questo è mai stato mio eppure è da lì che vengo e lì sono condannato a tornare proprio lì dove non riconosco più niente mi piacerebbe davvero sottolineare questa dimensione la mia terra non quindi la terra la mia terra la mia lingua la mia cultura niente di tutto questo è mai stato mio questa dimensione di dentro e fuori né dentro né fuori si manifesta a vari livelli nella scrittura di Trevesan rispetto al lavoro che sta facendo come nel caso di Works rispetto al luogo in cui si vive rispetto alla lingua in cui si parla e si scrive credo che sia anche all'interno di questa dinamica che si debba comprendere il rapporto difficile per molti versi ambiguo di Trevesan con il dialetto il dialetto è la lingua in cui Trevesan pensa lo dice continuamente il dialetto è la lingua in cui pensa in cui l'italiano parlava perché ha avuto modo di parlare con lui e in cui Trevesan si rifiuta di scrivere il dialetto scrive Trevesan è l'unica lingua in cui l'autore si trova a casa è la sua propria lingua e il dialetto è vivo secondo Trevesan proprio perché non è scritto credo che molto abbia a che fare con il dialetto e la compromissione che il dialetto implica i giudizi a volte anche sferzanti di Trevesan nei confronti del poeta Vicentino e cioè di Fernando Bandini o di quello che lui ha definito il sopravvalutato Zanzotto il dialetto è in un certo modo un dentro che non consente un fuori che non consente cioè quell'operazione di distanziazione dall'interno che è l'elemento decisivo del dispositivo letterario in genere di quello di Trevesan in modo particolare e credo non sia un caso che l'unico luogo in cui Trevesan usa il dialetto sia il teatro cioè una parola detta prima che una parola scritta e poi il dialetto espone subito alla retorica alla costruzione del tipo l'ideal tipo che dicevamo prima o se volete all'esagerazione da un certo punto di vista l'italiano è per Trevesan la lingua che consente di abitare quel territorio contraddittorio e di confine che è il limite il dialetto portato fuori dalla vita da un lato impedisce l'analisi dall'altro rischia di diventare subito o moralistico o macchiettistico si pensi al disagio che Trevesan prova rispetto al Veneto teatrale al birignao pseudo dialettale di un certo teatro civile Veneto il limite è una linea sottilissima di fatto impercettibile quasi priva di spazio e dunque proprio per questo è una linea affilata tagliente camminarci sopra è pericoloso ferisce camminare sul limite richiede esercizio attenzione consapevolezza un po' come quella di cui Trevesan racconta quando scrive del lavoro che forse aveva avvertito come più congeniale a sé prima della sua seconda vita cioè la vita di scrittore ovvero il lavoro di lattoniere che per la maggior parte dice Trevesan si svolge in alto sui tetti e su quei tetti piani o inclinati che siano sempre sul bordo sull'orlo del precipizio consentitemi di insistere su questa analogia che Trevesan fa fra il lattoniere e in qualche modo la scrittura e d'altra parte dice Trevesan parlando del lattoniere o forse parlando della sua scrittura è vero anche che quel nuovo lavoro arrivato per caso mi piacque da subito proprio perché si trattava di lavorare in alto sui tetti cosa che dava al mondo una prospettiva inusuale e che fosse così pericoloso così pericoloso me lo faceva piacere ancora di più forse perché l'altezza di cui almeno all'inizio ero sempre ben cosciente mi obbligava a concentrarmi a esserci per così dire lì e ora su quella trave su quel muro su quel tetto e mi costringeva continuamente a mettermi alla prova quasi fosse un gioco e non un lavoro parte della stanchezza assoluta dei miei primi giorni era senz'altro dovuta anche a questo dover esserci che impegnava anche la testa organo non necessario quando invece si tratta di far malta dalla mattina alla sera il limite cioè richiede consapevolezza non c'è nulla di naturale nello stare sul limite al contempo è solo da lì dal limite che come diceva Hegel una citazione consentitemela che come diceva Hegel è sempre insieme una cosa e il suo altro è costitutivo della cosa dice Hegel ed è il luogo della sua negazione è da lì dal limite solo da lì che è dato di rompere la prospettiva o perlomeno di non essere del tutto assorbiti in essa ovvero di essere contemporaneamente un io un io come dire determinato è anche la sua negazione anzi un io che è finalmente la negazione dell'io se scrivessi tutto mai arriverei alla fine che arriva comunque per me per tutti fredda buia fossa non detto magari vivissima intensa fiamma in molti preferiscono non io in negativo odiatissimo pronome sempre posso dire e per ultima volta e per sempre sia detto non io preferirei lenzuolo e in mare anche senza lenzuolo ma mare non io rarissimamente montagna sempre o altro luogo abbandonato montagna non abbandonata non frequento sempre no ma spesso dunque scomparire disperso il tempo necessario ai selvatici e i resti digeriti da bosco foresta friche quel che sia ma non uomini umani no umani stanco in vita da morto lasciato in pace vorrei essere lasciato non essere in pace grazie grazie molto Luca per questo intervento riprendo solo una battuta di Bachman che mi è piaciuta molto da cui sei partito da una letteratura in cui l'io è nella storia a una letteratura in cui la storia è nell'io che mi sembra dica molto della scrittura di Trevisan dell'io come sede di conflitto come anche un io inclusivo che porta dentro di sé tutti questi conflitti infatti ho parlato di un io situato e ricordo un collegamento che mi è venuto ma molto molto blando con quello scritto di Montale sui poeti inclusivi i poeti in situazione solo che naturalmente come dicevi giustamente la situazione in cui si colloca Trevisan è del tutto marginale ma è interessante che il prossimo intervento il titolo del prossimo intervento sia proprio prospettiva aberrazioni visto che di prospettiva hai parlato molto e quindi vediamo come continua il nostro pomeriggio Andrea Cortellessa grazie mille insegna letteratura italiana contemporanea Roma 3 Andrea è uno studioso conosciuto da tutti perché si è occupato di tutto diciamo così non ho verificato ma credo proprio che non ci sia bibliografia critica di autore novecentesco che non porti un suo contributo importante basta prendere la sua importantissima raccolta di saggio sia la fisica del senso saggio interventi su poeti italiani dal 1940 a oggi che insomma ormai è di qualche anno fa ma sarebbe ora anche di farla ricircolare perché insomma non è più esaurita insomma del 2006 ecco in quella in quella tomo molto ampio amplissimo insomma ecco ci si può rendere conto della vastità dei suoi interessi dei suoi interventi e delle sue conoscenze che sono sempre conoscenze non solo di contesto ma estremamente puntuali dal dato filologico e materiale a quello formale stilistico a quello storico e generale ma Andrè non si occupa solo di autori ma anche di movimenti e di momenti ed eventi che hanno segnato la storia italiana penso naturalmente all'antologia o alle antologie insomma a cui si è dedicato dalla più lontana le notti chiare erano tutte un'alba antologia di poeti italiani nella prima guerra mondiale del 98 e poi ripubblicata nel 2018 che ricostruisce puntualmente attraverso i testi un momento fondamentale non solo sul piano storico del nostro recente passato non più recente in effetti con le reazioni individuali esistenziali dei poeti soldato ma anche il dibattito ideologico restituendo insieme a un panorama vario articolato di posizioni letterarie e di poetiche ha al suo attivo molte monografie su Sanzotto su Manganelli su Ungaretti insomma a suo tempo e ha curato notevoli edizioni di opere poetiche ricordo tutte le poesie di Pagliarani con una interessante profonda introduzione ha poi curato il volume di romanzi di Di Ruscio tutte le poesie di De Chirico eccetera riferimento a De Chirico mi permette di dire insomma che i suoi interessi non sono solo letterari ma anche artistici e insomma per farla breve se mi permetti è anche insomma un animatore culturale perché appunto si occupa di collane di torià di poesia di narrativa lavora per la Rai eccetera 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 datela per buona questa cosa ma possono inviarvi la sua voce di Wikipedia che è molto lucida insomma è un po' imbarazzante presentare Andrea per chi come me gli è vecchio di un anno solo più vecchio di un anno insomma e quindi presentarlo è anche un esercizio di umiltà da parte mia un esercizio spirituale ma la cosa si spiega facilmente dicendo che di Andrea Cortellessa in giro ce n'è più di uno evidentemente va bene a parte queste battute il suo intervento si intitola prospettive avverrazioni grazie 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 veramente per questa presentazione grazie moltissimo per l'invito agli organizzatori a Matteo Giancotti col quale mi lega non antichissima ma intensa amicizia e a tutti gli amici di Padova è sempre un piacere tornare qui anche se l'occasione è anche dolorosa allora vale per qualsiasi testo pubblicato all'indomani della morte dell'autore ma a maggior ragione per le circostanze tragiche quanto repentine di quella di Vitaliano Trevisan l'interrogativo sul grado di compiutezza di Black Tulips interrotto ma non incompiuto lo definisce il risvolto di copertina stringatissimo sei righe per 34 parole con improbabilità dovuto a Paolo Repetti e nella sua contraddittorietà appare una definizione aperta e problematica o se si vuole aporetica e paradossale dunque assai congeniale al suo autore sarà stato magari anche per suggestione della sincronicità della sua uscita con la massima effervescenza delle celebrazioni del centenario di Pasolini ma sin dal suo apparire giusto un anno fa il paradosso del suo statuto mi è parso lo stesso dell'inedito dall'apparizione che forse più ha vulnerato il nostro novecento letterario cioè Petrolio testi fra loro evidentemente diversi Petrolio e Black Tulips quanto scrittori dai presupposti diversissimi sono stati Trevisan e Pasolini ma che al di là delle apparenze mostrano specie nelle rispettive stagioni postreme singolari traiettorie di avvicinamento ce l'ha mostrato questa mattina Gilda Policastro fatto sta che nella prima versione del capitolo iniziale di Black Tulips Murtala Mohamed consegnata nel 2016 a un'antologia di scritti di viaggio o come preferisco dire di luogo dal titolo Con gli occhi aperti che curai quell'anno per un editore specializzato di Roma Exorma l'introduzione a quel libro prendeva il titolo da uno dei ritornelli conversazionali di Juliet la coprotagonista del libro You must see with your own eyes approfitto per correggere una minima imprecisione di Gilda in realtà purtroppo non ho inserito Vitelliano Trevisan nella terra della prosa perché effettivamente aveva esordito prima del 99 e anzi mi viene in mente che forse l'idea non semplicissima da realizzare di includere Vitelliano in quel libro fosse una sorta di strana e molto stupida ovviamente tentativo di risarcimento nei suoi confronti comunque in quella prima versione del primo capitolo di Black Tulips c'era una cospicua tirata contro Pasolini che nella conversazione allegata in coda al testo come per gli altri autori antologizzati mi induceva a chiedergli perché ce l'avesse tanto con lui allorché Trevisan mi neplicò io non ce l'ho affatto con Pasolini semmai non mi piace come viene messo sul piedistallo che fra l'altro lui per primo non avrebbe apprezzato no? L'esternazione è stata resecata dal testo definitivo nel quale il cenno a Pasolini che vi residua risulta alla lettura piuttosto ambivalente e non troppo significativo ma che tra le ispirazioni di questo Trevisan vi fosse anche l'ultima e infernale stagione di quell'altro affetto da mal d'Africa mi parlo di Capure l'onomastica della coprotagonista che si pseudonomina come la protagonista del romanzo del Marchese de Sade Juliette ovvero la prosperità del vizio sorella della vittima predestinata che è viceversa la protagonista di Giustin o le disavventure della virtù e il cui vero nome Ade allude lo notava prima Gilda al viaggio nel cuore di tenebra di inferi non così distanti per certi versi da quelli di Salò o lo 120 giornate di Sodoma o appunto di Petrolio ma l'accostamento lo consente soprattutto lo accennavo la parentela strutturale di due testi che sono aperti in misura tanto intenzionale quanto preterintenzionale che cioè condividono lo statuto appannaggio raro se non unico nella nostra letteratura di essere due volte incompiuti da un lato perché la loro stesura è stata interrotta dalla morte violenta dei rispettivi autori seppure a un diverso stato di elaborazione approfitto per dire che ritengo attendibile la testimonianza di Paolo Repetti che considera definitiva la stesura da Trevisandi in effetti rivista sino all'ultimo come posso testimoniare a mia volta delle pagine pubblicate nell'ottobre del 22 tranne che per gli ultimi due frag dei quali resta nell'ultima pagina appunto la sola indicazione del titolo Benin City terzo della serie con questo titolo e A Place to Stay secondo della serie rispettiva doppiamente in compito dicevo dall'altra parte oltre che per la morte violenta dei rispettivi autori perché entrambi sin dal principio concepiti come frammentari il libro mette le mani avanti Trevisan si compone di frantumi e di frammenti frantumi se ritrovati nel passato frammenti particolari quando più vicini al presente più precisamente ancora tanto petrolio che Black Tulips giustappongono fra loro in serie parallele capitoli narrativi e inserti non solo speculativi come nella tradizione del romanzo saggio la quale Trevisan paga tributo anche col corredo non solo parodico di note a piedi pagina che giustappone al suo ma metanarrativi che si soffermano cioè sulle caratteristiche del testo che le comprende in qualche caso con effetti di cortocircuito per non dire di schizomorfo discordo Trevisan chiama le sue avvertenze laddove Pasolini che per questa dicotomia si ispirava con ogni probabilità alla larga Dante e più da vicino a Gadda distingueva i due livelli con la dizione visione attribuita ai frammenti dell'intreccio di petrolio e con quella progetto riservata invece ai lacerti del suo autocommento i titoli dei capitoli di Trevisan segnalano ulteriormente il loro stratuto frammentario con la particella che li segue FRAG appunto e la dialettica tra frammento e insieme non è nuova alla riflessione di Trevisan che aveva intitolato per esempio The FRAG con metafora informatica uno dei tre testi pubblicati nel 2004 in World Stars testo messo in scena da non seguente insieme al gemello Scandisk con il sarcastico titolo Il lavoro rende liberi la questione viene aggredita di avvertenza in avvertenza senza mai essere sviscerata sino in fondo ma nella prima e più distesa delle avvertenze che rega a ogni buon conto il sottotitolo un manifesto forse viene messa in relazione proprio come il titolo del nostro incontro di oggi con la doppia valenza esistenziale da un lato e artistico progettuale del termine prospettiva è una citazione che ha già fatto prima di me Luca Illetterati quindi la riduco al minimo indispensabile non sono mai stato in grado di pensare in prospettiva come si dice né verso il futuro né verso il passato e meno ancora sono stato e sono in grado di pensare me stesso in prospettiva strano perché so benissimo come mettere qualcosa in prospettiva anzi direi che essendo stato un disegnatore tecnico professionista era un vero esperto di come si esegue una prospettiva salto appunto molte righe lo scrittore non è in rapporto prospettico con lo scrittore in cui gli piaccia oppure no si è effettivamente evoluto ed è le modalità con le quali il soggetto si è mosso nel tempo e nello spazio nel suo ambiente e fuori di esso o meglio nei suoi vari ambienti e fuori di essi sono sempre state dettate dalle contingenze Luca ha approfondito molto giustamente questo termine che chiaramente è una matrice filosofica le quali dovendo moltissimo al caso non permettono di rendere il suo percorso in metafora prospettica qualche riga prima però se mi nascosto in una nota a piedi pagina si trova un riferimento più preciso e che mi pare decisivo per capire i presupposti estetici mi esprimo con un termine mi rendo conto che avrebbe fatto sorridere immagino Trevisanna di questa concezione che sono presupposti relativi all'architettura cioè appunto all'arte che se ne discorreva poco fa a pranzo costitutivamente vive della dialettica tra progetto e visione per tornare a usare la dicotomia di Pasolini è la nota 19 a pagina 21 ciò che appariva come una distesa di frammenti si rivela infatti un paesaggio da cui emergono riferimenti disponibili a un complesso gioco di riconoscimenti e alla ricomposizione in una rete di percorsi possibili solo che i fili che legano i percorsi sono tenui così da permettere un'infinità di costellazioni sarà allora forse più corretto parlare per evitare gli equivoci non di una poetica del frammento per scarpa bensì di una poetica fatta di figure figure non immagini né spezzoni nostalgici di totalità la citazione è tratta da Manfredo D'Afuri e in particolare appunto da un saggio su Carlo Scarpa e la cultura architettonica italiana pubblicato negli anni 80 la chiave di Black Tulips o una delle sue chiavi va ricercata allora nel testo la cui stesura è del resto parallela a quella del romanzo se così si può definire che a Carlo Scarpa seppure dall'inizio alla fine è nominato Trevisan ha dedicato ossia al delirio del particolare che esce a stampa nel 2020 dunque a consuntivo per dirla come ha fatto stamane Simona Morando perché tre anni prima aveva fatto in tempo a partecipare al premio Riccione per la drammaturgia vincendolo la parte conclusiva di questo testo l'italiano me la diede per un estratto promozionale che pubblicammo il 24 settembre 2020 sulla rivista Antinomie ricordo questa circostanza in effetti non molto significativa perché rappresentò quello l'inizio della sua collaborazione a questa testata online che è stata l'ultima di questo non collaborazionista per Antonomasia per dirla col Giglioli che citava stamattina Emanuele Zinato collaborazione sulla quale dovrò tornare fra poco fra i tre personaggi che prendono la parola in questo set claustrofobico come sottolinea il sottotitolo Ein Kamerspiel o che in scena quella parola ascoltano e ne prendono nota come fa il servo di scena Cecchin a tante ricorrente nella sua drammaturgia come ci ricordava stamane sempre Morando non figura in effetti il convitato di Pietra al centro di tutti i loro pensieri appunto Carlo Scarpa per la buona ragione che è morto innominato o becchettianamente innominabile ma ripetutamente all'uso così come quando in precedenza si evoca Goffredo e ovviamente a Parise che si allude è lui l'artefice la cui architettura si sostiene d'altronde nel testo ha sempre a che fare con la morte la non meglio identificata vedova che ne compone un ritratto postumo a beneficio dello studioso Bernardi è identificabile in onorina a Brion Thomasin che rimasta appunto vedova di un industriale grande ammiratore dell'architetto nel 1969 gli commissionò il suo sepolcro la tomba Brion appunto probabilmente l'edificio più ammirato e studiato dell'architettura italiana del secondo novecento e che di scarpe è rimasto il capolavoro nonché l'estrema dimora perché l'architetto rimasto vittima alla fine del 78 di un banale incidente in Giappone volle essere sepolto in un angolo appartato di quella sua opera in tutti i sensi estrema portata a termine poco dopo la sua morte che in monumento di questo testo si riveli insieme un rifugio e una trappola come la vedova avverte il professor Bernardi professore la cui onomastica non ha bisogno di troppi commenti e anzi appunto una tomba allude a una più radicale ambivalenza di antropologia dell'immaginario diciamo fra claustrofobia e claustrofilia per dirla con Elvio Fachinelli e alla nostalgia dell'indifferenziato più o meno uterino che questa la claustrofilia sempre in qualche modo rappresenta è un tema questo che percorre con continuità l'opera di Trevisanna fino alla sua ultima pubblicazione l'ulcerato reportage dalla Terra Santa per dirla con una metafora eloquente di Alda Merini dell'ospedale psichiatrico di Montecchio Maggiore i due ultimi testi saggistici pubblicati da Trevisanna entrambi su antinomie appunto rispettivamente il 27 ottobre il 27 novembre 2021 era proprio nel corso del ricovero a Montecchio Maggiore o ricostruito a Precu ovviamente che l'italiano mi bombardava di mail con i più o meno deliranti particolari delle correzioni che desiderava portare al primo di questi due testi sono dedicati entrambi a questioni di prospettiva in senso diciamo in generale ottico-percettivo ma nel primo di questi due testi specificamente architettonico Tre pezzi facili è il titolo del primo di questi due saggi che nel titolo parafrasa quello di un amaro film diretto da Bob Rafelson nel 1970 con Jack Nicholson il quale a sua volta alludeva a tutta una serie di brani musicali intitolati con questa connotazione spesso falsamente rassicurante a partire dai celebri 23 pezzi facili di Bach il saggio è dedicato a un architetto napoletano Cherubino Gambardella col quale negli ultimi anni è intercorsa un'amicizia intensa anche se ha detto l'interessato in un omaggio a Trevisan che abbiamo organizzato una decina di giorni fa ad Acquasparta in Umbria gli incontri devisu tra i due non furono in effetti più di due o tre comunque è in questo testo che si legge la migliore definizione dell'ambivalenza sulla quale si fonda strutturalmente Black Tulips rinunciare al controllo già in fase di progetto solo così l'architettura potrebbe oggi riappropriarsi del bello mostruoso che per natura gli appartiene questo scendolo la mostruosità allude alla bellezza imperfetta come la definisce Gambardella come riprende Trevisan di opere architettoniche che hanno segnato la modernità in misura persino proverbiale a Napoli come le secretissime vele di Scampia e più in particolare a un progetto di Gambardella che si intitola Mostro dentro una sala del Settecento come l'architetto ha ribadito anche nel corso dell'incontro che ricordavo prima è sua per esempio la convinzione che sia perfettamente inutile difendersi in sede di progetto in un contesto come quello napoletano dalle superfetazioni che definiamo abusi il progetto cita Trevisan prevede l'abuso anzi lo incoraggia più in generale si riferisce al concetto di violenza in architettura per come lo ha espresso Bernard Ciumi dove lo slogan citato da Trevisan basta sostituire la parola architettura con la parola scrittura mi pare valga benissimo anche per lui non c'è architettura senza azione non c'è architettura senza eventi non c'è architettura senza programma per esteso dunque non c'è architettura senza violenza la violenza e quello che Trevisan definisce il mostruoso dell'architettura sono in effetti quanto nel bene e nel male rende i suoi oggetti gli oggetti dell'architettura per noi memorabili l'architettura cioè la letteratura secondo un'equivalenza ormai quasi esplicita in queste ultime parole cito ancora da Trevisan nel momento in cui quest'ultima si piega alla comunicazione svuotato di tutto il positivo più non meraviglia e senza meraviglia né bellezza né bruttezza è la violenza che Manuolo Ezzinato ha definito qui aggressività stilistica guerriglia linguistica e a questo punto non ci sorprende che secondo Trevisan in termini più specificamente tecnici nei progetti di Gambardella la violenza si eserciti col suo viscerale rifiuto della prospettiva anche se questa connotazione generale a ben vedere viene corretta da quanto subito le tiene dietro perspettiva questo è il nome corretto ovvero un bisturi glaciale che taglia lo spazio come burro il coltello rovente l'Alberti stesso uomo onesto ben cosciente della distanza tra la perspectiva artificialis delle fonti medievali dell'ottica e la loro applicazione in campo artistico e figurativo preferirebbe intersegazione c'è dunque una violenza ancorché sottile e dissimulata anche nella prospettiva che vorrebbe battere in breccia la violenza di chi più o meno visceralmente la rinnega scrive Trevisan Cherubino anche egli uomo onesto ben cosciente della delicatezza dell'intervento ogni intervento usa di bisturi e sega chirurgica solo se costretto è vero è inevitabile capita di dover tagliare e segare ogni tanto ma solo là dove altro anziché guarire guasterebbe l'animo gentile come lo chiama Trevisan dell'architetto prende sì atto della natura inevitabilmente violenta dell'arte sua ma si guarda bene dall'assecondarla e allora quella di chi non si arrende al bisturi glaciale della normatività prospettica pare di capire è una specie di violenza omeopatica una violenza che paga in provocatoria evidenza quanto in effetti senza dichiararlo si sforza di correggere se non addirittura quanto mai eloquente questo verbo di Trevisanna guarire la violenza altrui la gentilezza paradossale nella sua violenza di cui ci parla qui il italiano chi lo ha amato credo possa ben riconoscerla questo stesso doppio movimento è il tema del secondo articolo da lui pubblicato su Antinomie che il problema della prospettiva prende finalmente di petto non si parla più di architettura in aberrazioni tra parentesi non marginali sottotitolo uno scorcio se non come metafora le prospettive in questione sono infatti stavolta quelle delle dinamiche sociali di un presente quello in cui Trevisan scrive novembre 2021 che certo è stato il più traumatico dell'ultimo mezzo secolo quello della pandemia e dei paradoxi epidemica vigenti sui media in quelle settimane mesi con questa etichetta paradoxia epidemica infatti che avevamo prelevato dal titolo di un trattato di retorica del seicento pubblicammo su Antinomie allora una serie di interventi per lo più di filosofi che riflettevano sugli strange days toccatici in sorte e in effetti l'italiano come mi disse nell'occasione aveva scritto questo testo aberrazioni non marginali per un'altra sede un libro collettivo curato da un giovane editore militante molto polemico quel tempo aggressivamente schierato su posizioni novax i cui intenti però Trevisan senza ovviamente appiattirsi sulle narrazioni dominanti sui media aveva capito non coincidere affatto con i suoi per questo motivo aveva deciso di stornare il testo da quella sede e destinarlo alla nostra rivista dunque forse anche in questo caso almeno in origine la sua idea era quella di una dissimulazione onesta come Zinato descriveva quella dell'incondito testo del 2017 Man's Land niente in effetti se non la destinazione immaginata dall'autore nonché quella da lui accettata come sede alternativa consente di riferire la riflessione di Trevisan alla discussione appunto sulla pandemia allora in corso ma al di là di questa è necessario coglierne il dato di polemica anzitutto sociolinguistica che come ci spiegava Emanuele Emanuele Zinato sempre più è divenuto l'acceleratore emotivo dominante della sua scrittura sicché l'aberrazione del titolo diventa quel correttivo omeopatico di cui si diceva prima che chi osserva il mondo applica alla sistematica distorsione della realtà che le convenzioni della doxa ingannevoli presentano invece come visione attendibile e neutrale delle cose cioè appunto come l'unica prospettiva realistica come spiega Trevisan cito aberrazione è termine tecnico ben noto grazie alle fotografie sta a indicare la discrepanza tra l'immagine prospettica e quella retinica la prospettiva piana proietta le linee rette in quanto rette ma essendo il nostro schermo convesso le vediamo percepiamo come curve questo fenomeno ottico oggetto di un saggio formidabile del grande storico dell'arte lituano Jurgis Baltrosaitis distorce il dato visivo e nel farlo consente però in certi casi di percepire un'altra immagine dissimulata all'interno o a fianco di quella presentata come oggettiva nella forma per esempio dell'anamorfosi oggetto specifico di un altro celebre libro di Baltrosaitis al di là di questa accezione tecnica un po' proprio come il termine prospettiva in effetti il termine aberrazione colpisce naturalmente per il sovrasenso morale che con impercepita catacresi nel linguaggio comune si è sovrapposto a quello originale dell'ottica sino a esaurarlo del tutto un altro autore evidente che con Trevisan condivide alcuni presupposti e che si è valso molto di recente di questa stessa ambiguità semantica il Francesco Permunianna di Elogio dell'aberrazione che è un libro uscito l'anno scorso e che tra l'altro a sua volta è una sorta di strano dialogo con Pasolini ma come spiega appunto Baltrosaitis l'accezione appunto il termine aberrazione equivale propriamente più in generale a una categoria interpretativa quella che lo studioso definisce la verità delle favole per cui sostiene Baltrosaitis le illusioni e le fantasie che nascono intorno alle forme corrispondono a una realtà e generano a loro volta forme in cui immagini e leggende vengono proiettate e si materializzano nella vita non ci si può non ricordare dell'apologo celebre desunto peraltro da un dialogo platonico che amava ripetere sempre Céline il bastone che è immerso nell'acqua ci appare spezzato e che dunque per rappresentarlo diritto nella rifrazione indotta dal medium bisogna artificialmente slogare nel testo consegnato ad antinomie aberrazioni non marginali non manca Trevisan di ricordare l'affermazione della prospettiva sottilmente violenta appunto al tempo della sua introduzione o meglio restaurazione rinascimentale fu nel corso del cosiddetto rinascimento scrive Trevisan che la prospettiva da uno dei tanti metodi di raffigurazione del mondo prese il potere e divenne l'unico metodo di raffigurazione legittimo ma subito dopo il discorso in Trevisan si amplia notando come quel metodo di raffigurazione sia divenuto sistema percettivo e comunicativo narrazione egemone e insomma ideologia la prospettiva continua Trevisan finì presto per imporsi anche a livello di pensiero vedi scuola di Marburgo tanto da diventare natura al punto che non molto più tardi la nostra stessa vista si è modificata adattandosi alla griglia prospettica al punto che l'occhio tende a correggere in automatico senza che ci sia bisogno di pensarci le curvature e aberrazioni varie che l'applicazione indiscriminata della visione prospettica porta inevitabilmente con sé è questa dunque la correzione o guarigione che va esercitata a priori per così dire nei confronti della prospettiva intesa in questo caso in senso tecnico che corrisponde all'irregimentazione della visione esercitata dalla doxa dominante in una determinata episteme della visione o come puntualizza Trevisan del pensiero che è tutto un altro discorso dice lui la concezione prospettica matematizza anzitutto lo spazio e il tempo in modo da poter analizzare disporre corpi e cose nello spazio-tempo e restituire quindi rilievo dati in prospettiva e come detto chi potrebbe negare che al presente tanto lo spazio quanto il tempo non si siano drasticamente ristretti come si vede qui la metafora politica del testo diventa esplicita anche se la sua portata eccede di gran lunga la polemica pandemica in corso scrive ancora Trevisan la politica ma in realtà l'economia agisce sulla base di proiezioni e agendo essa nel e sul presente la sua fame per così dire proiettiva è sempre più insaziabile ma queste proiezioni sempre più drasticamente imposte dalla doxa prosegue Trevisan non sono nella possibilità di evitare le aberrazioni marginali né di correggerle se non in modo illusionistico ovvero falsificando i dati di realtà per far sì che detta realtà si avvicini il più possibile al modello aberrante dunque si può concludere o comunque così fa Trevisan che la stragrandissima maggioranza del genere umano per lo meno in ambito occidentale qualsivoglia sia il suo genere e a prescindere dal grado di cultura continua in piena incoscienza a pensare prospetticamente in un mondo in cui la prospettiva come crediamo di aver dimostrato è negata e dunque proclama in clausola Trevisan con inflessione alla quale non sfugga il tasso lievemente parodico io riconosco ed eleggo l'aberrazione a cifra di lettura indispensabile a chiunque volesse per lo meno tentare di comprendere questi anni deliranti come vediamo torna il delirio il delirio del particolare da Trevisan attribuito all'architettura di Carlo Scarpa tanto il delirio che l'aberrazione sono forme di quella violenza omeopatica che la scrittura in numerati casi come il suo è in grado di esercitare nei confronti della violenza invece impercepita che anzitutto a livello linguistico e rappresentativo esercita la società sugli individui che la compongono il delirio del particolare è il delirio dell'individuo che smaschera distorcendolo il delirio generale in cui sempre più andiamo affondando grazie va bene possiamo cominciare sì grazie cominciamo va no vieni qua fammi compagnia grazie allora possiamo ricominciare con le ultime due relazioni di questo insomma di questo seminario incontro molto molto interessante molto stimolante la prossima relazione che si intitola geografia dell'abbandono ce la propone Mauro Varotto che insegna geografia all'università di Padua Mauro Varotto coordina il gruppo Terre Alte del Comitato Scientifico Centrale del CAI non più da quest'anno basta questa è una notizia che diamo in anteprima un titolo in meno però insomma ha coordinato il gruppo Terre Alte si occupa quindi diciamo così di montagna qui è dedicato a varie monografie la montagna che torna a vivere testimonianze i progetti per la rinascita delle terre alte del 2013 paesaggi terrazzati d'Italia eredità storica e nuove prospettive del 2016 montagne del Novecento il volto della modernità nelle Alpi e per Alpi Veneto del 2017 e montagne di mezzo una nuova geografia del 2020 ha anche ideato e prodotto il documentario Piccola Terra che ha vinto il premio Cinema Ambiente nel 2012 in sostanza penso da quello che ho capito insomma è una geografia umana quella che interessa forse di più a Varotto una geografia difficile perché deve mettere in campo competenze e sensibilità diverse passione per il dato fisico biologico e attenzione al dato umano e culturale fin dall'inizio dei suoi studi è sempre stato attento non solo quindi alla terra ma anche al racconto attorno alla terra e sulla terra alla narrazione sull'ambiente come dimostra il primo forse volume che ha prodotto e che si intitola Il grigio oltre le siepi geografie smarrite racconti del disagio in Veneto nel 2005 con Francesco Valerani forse proprio sullo sfondo di questo interesse per il Veneto e la sua terra ferita ha incontrato la narrazione di Vitaliano Trevisan a cui ha dedicato un bellissimo per me saggio a proposito dei 15.000 passi uscito per il volume La geografia del racconto a cura di Davide Papotti e Franco Tomasi nel 2014 un saggio interessante perché riesce a mettere insieme le prospettive e gli interessi di uno sguardo da geografo con una sensibilità niente male sul fatto letterario quel saggio l'ho riproposto anche a lezione in una serie di corsi legati appunto al paesaggio al paesaggio e alla letteratura parlando di come lo scrittore può occuparsi d'ambiente facendo finta di occuparsi occupandosi anche da altri il titolo di quel saggio del saggio su Trevisan è ripreso nella sua prima parte nel titolo della relazione di oggi appunto geografie dell'abbandono e gli cedo la parola e lo ringrazio grazie a voi per questo invito e per questa giornata veramente molto stimolante come avete capito il mio sguardo è un po' laterale non sono un esperto di letteratura però la mia tesi di laurea era legata al tema dell'abbandono e quindi c'è un filo rosso che mi lega in qualche modo a questo concetto questa parola che è l'abbandono che poi torna molto anche nella letteratura di Vitaliano Trevisan ma ciò che mi lega anche alla narrativa di Vitaliano Trevisan è il tema dell'invettiva e della critica al modello urbanistico il modello territoriale insomma del nord-est perché ho letto ho letto i 15.000 passi quando stavamo progettando appunto questo libro il grigio oltre le siepi che era un po' una miscellanea diciamo di voci critiche nei confronti di questo modello produttivo ma anche un modello territoriale un modello di consumo di suolo un modello di ricchezza fortemente dissipativo e quindi da subito io ho trovato nel testo di Trevisan 15.000 passi qualcosa di lucidissimo una denuncia lucidissima peraltro presente anche in altri testi di urbanistica però diciamo con una appunto lucidità nel raccontare quello che stava accadendo o era già accaduto appunto nella quella che poi richiama periferia diffusa non città diffusa che credo di non aver trovato o aver trovato in pochissimi altri testi anche di esperti diciamo di urbanistica quindi se io faccio delle incursioni nel mondo letterario sicuramente Trevisan ha fatto delle incursioni nel mondo geografico estremamente interessanti quindi ci scambiamo queste incursioni geografie dell'abbandono io parto da questo appunto saggio che abbiamo scritto e delle riflessioni che poi abbiamo condiviso anche con Franco Tomasi con cui abbiamo scritto anche un altro saggio insieme parto da questo saggio appunto pubblicato nel 2014 nel volume curato da Davide Popotti Franco Tomasi per Peter Lang la geografia del racconto e cerco di un po' mettere a sistema diciamo quello che lì avevo già in qualche modo individuato come una sorta di fenomenologia dell'abbandono nella narrativa di Trevisan e mi ritrovo molto devo dire ovviamente ho apprezzato tutti gli interventi di stamattina e anche del pomeriggio ma mi ritrovo molto mi echeggiano insomma un po' da un lato le categorie insomma che ha utilizzato Emanuele Zinato in particolare il tema della compresenza dell'invettiva e dell'ascolto e poi tornerò sul tema di Luca Letterati sul tema dell'io e del confine del dentro e del fuori che parlo estremamente interessante estremamente geografico come chiave l'invettiva e l'ascolto è fin troppo facile appunto partire da i 15.000 passi o comunque dagli altri lavori di Vitaliano evidenziandone l'aspetto di invettiva appunto la geografia critica diciamo del modello di sviluppo questa sorta di alienazione questo cito appunto questa betoniera nord-est potremmo definirla così lui usa la parola betoniera che è spettacolare una sorta di leonia calviniana impegnata senza sosta a riprodurre se stessa e a generare poi rifiuto rifiuto territoriale rifiuto umano rifiuto ambientale una città diffusa che non ha più nemmeno la dignità di una città e infatti lui non la chiama più città ma periferia e tutto questo è un po' la pars destruens del suo discorso ma dentro questa pars destruens c'è una pars che io definisco appunto una pars construens che è appunto legata alla ricerca di una sorta di crepa via di fuga che possa in qualche modo elevarci da questo da questo atto d'accusa diciamo così ed è su questo che mi vorrei un po' concentrare quindi lasciando da parte se vogliamo ma poi non è altro che il rovescio della stessa medaglia quello spazio calpestato devastato spezzettato frazionato venduto polverizzato della privatopia veneta insomma per provare ad immaginare una dimensione alternativa non dico una prospettiva perché appunto è un termine bannato ma sicuramente un modo in cui poter provare a respirare in questo contesto che è alienato e alienante intuendo orizzonti evidentemente più ampi e allora passerei in rassegna tre fenomenologie dell'abbandono o interpretazioni dell'abbandono che portano con sé però altrettanti modi di intendere il fare geografia quindi geografia dell'abbandono sono tre declinazioni dell'oggetto ma anche del metodo attraverso il quale l'oggetto viene definito identificato quindi da un lato cito e quindi mi appoggio praticamente a una sua frase che è abbandonare essere abbandonati abbandonarsi grande amore per tutto ciò che è abbandonato grotteschi arabeschi abbandonare essere abbandonati e abbandonarsi tre declinazioni diciamo del tema e tre modi di fare anche geografia diversi diciamo che noi possiamo ricavare dalla sua esperienza il primo parto dall'abbandonare l'abbandonare ha a che fare con una geografia di osservazione della realtà e quindi una geografia urbana chiamiamola così una geografia descrittiva fatta con i piedi una volta si diceva che la geografia vera è fatta con i piedi e Vitelliano-Travisan fa una geografia fatta con i piedi cioè attraverso i territori descrive minuziosamente miticolosamente analiticamente e in qualche modo racconta tutta una serie di fenomenologie dell'abbandono che incontra in una manifestazione diciamo così una declinazione diciamo che io ho organizzato in tre spazi diciamo tre elementi tre dimensioni una è quella degli interstizi i cigli stradali i spazi di scarto una è quella delle aree dismesse quindi qualcosa di più ampio non è un frammento ma è qualcosa di più ampio ma che però che ha perso una sua funzione e il terzo è quello delle rovine che tra l'altro è probabilmente appunto il punto di partenza anche di tutta questa riflessione sull'abbandono perché ruins appunto questo progetto iniziale di Trevisan è poi la scaturigine di tutta una serie di riflessioni che tornano nei suoi racconti cito qui una frase molto breve solo per citare ma ce ne sono moltissime nella sua narrativa questa viene da 15.000 passi sempre e parla dello scarto dell'interstizio appunto della superficie di risulta l'angolo di terreno dove il controllo umano viene meno e la natura riprende il sopravvento pezzi di terra che non vuole nessuno perché non ci si può cavare niente oppure terre cosiddette demaniali fasce di rispetto dei corsi d'acqua cimiteri ferrovie autostrade eccetera siti interstiziali di cui si è persa memoria e poi dice luoghi essenziali diceva mio fratello per capire come vanno davvero le cose e qui già emerge quella che è la terza dimensione dell'abbandono su cui parlerò più tardi intanto però è interessante cogliere questa dimensione altra dimensione di scarto di alterità rispetto ad un progetto dilagante di territorio messo a sfruttamento diciamo messo a rendita ed è interessante il fatto che come già stato detto in sostanza ed è secondo me veramente illuminante l'esempio del Nodal Molin dell'aeroporto perché il suo obiettivo non è quello di quell'urbanistica tra gli anni 90 e gli anni 2000 si occupa di aree dismesse quindi di riprogettare di riqualificazione di riprogettazione di patrimonializzazione diciamo delle cose storiche lui si propone proprio di lasciarli così come sono questi spazi ed è molto evidente nell'esempio che ha portato Emanuele stamattina quindi non sono gli ennesimi vuoti da riempire o da rigenerare ma sono proprio un varco un varco spazio-temporale verso una dimensione altra e trascendente da esplorare e da salvaguardare Castelnovi che è un urbanista insomma dice appunto che nella pianificazione non si accettano spazi privi di progetto per definizione quindi l'assenza di progetto è una debolezza per l'urbanistica paradossalmente invece l'assenza di progetto che l'abbiamo ripeto più volte oggi è un punto di forza per Trevisano e quindi non esiste la parola abbandono in urbanistica se non come un spazio vuoto da riqualificare da riempire eccetera in qualche modo viene in mente deserto il rapporto tra strategia e tattica quindi la dimensione diciamo progettata degli spazi che però al tempo stesso al loro interno se noi facciamo attenzione fanno emergere qualcosa di inaspettato di non previsto ed è quello l'aspetto più interessante su cui soffermarci sono questi quindi i veri luoghi di valore di Trevisan che è appunto uno scrittore una voce anti-sistema anti-pensiero dominante anti-visione pervasiva della realtà e quindi non interessa la villa di Trissino ma il rondò di Viale Criccoli con gli appartamenti con la persona che si affaccia sul rondò gli interessa non la basilica palladiana ma l'angolo dello scandalo della basilica palladiana verso gli altri edifici insomma vedete uno sguardo completamente laterale rispetto alla nostra visione del concetto di valore e questi scarti ci servono per squarciare un velo evidentemente penso al campo marzo il campo marzo che già nome quindi qualcosa di marcio di paludoso insomma di assolutamente privo di valore che diventa un elemento invece fondamentale perché secondo Trevisan perché non è propriamente un luogo abbandonato ma per il fatto di avere un accesso senza restrizioni o controlli funziona da spazio liberatorio rigenerante e così in solo et pensoso il campo marzo a Vicenza viene preferito per il fatto di non avere una recinzione a differenza di tutti gli altri parchi della città dice Trevisan era questa per me la sua bellezza più grande non avere recinzioni ed essere dunque accessibile a qualsiasi ora del giorno o della notte senza dover valicare cancelli scavalcare muri questa dimensione liberante quindi dello spazio di margine chiamiamolo così come era originariamente il campo marzo dall'abbandonare qualcosa di oggettivo fuori da noi all'essere abbandonati dentro di noi questa è la dimensione soggettiva e qui entriamo dentro un altro modo di fare geografia di Trevisan che è la geografia umanistica è la geografia che si afferma negli anni 70-80 è la geografia che guarda alle terre incognite del soggetto più che non alle terre nuove da esplorare all'esterno e qui l'abbandono viene declinato appunto al passivo si passa dai luoghi abbandonati all'essere abbandonati al sentirsi abbandonati e che vuol dire inservibili inutili c'è una bellissima frase nel ponte che dice mentre all'esterno tutto sembra unirsi e fa riferimento a questa città che si diffonde sostanzialmente a questo tessuto coalescente dello spazio costruito mentre all'esterno tutto sembra unirsi all'interno tutto sembra frammentarsi questa frammentazione dell'io appunto su cui è chiaro che Trevisan rivolge la sua attenzione ancora una volta mettendo in connessione il dentro e il fuori come è stato detto prima ci si rivolge qui agli scarti umani ma prima ancora animali per esempio sul ciglio stradale le rane disseccate il riccio disteso in tutti i suoi aculei insomma questa attenzione all'elemento vivo che viene schiacciato che viene distrutto viene annientato viene abbandonato e questo discorso ovviamente si estende alle persone quindi è tutto il tema delle vite di scarto Zigun Bauman per intenderci e queste figure queste persone stritolate dal tamburo rotante appunto della betoniera che lavora con i secondi dalla dittatura dell'asfalto le strade ovunque che cancellano quello che viene poi definito il terzo paesaggio la pietra umana scartata dai costruttori quindi una dimensione alienante del lavoro che poi anche in works emerge molto bene la non adesione al sistema dell'individuo che viene poi appunto espulso dal sistema stesso ecco in tutto questo io vedo un sentimento in Trevisan che anche questo è stato ben sottolineato oggi di quella che in geografia umanistica viene chiamata appunto da Edward Ralph in particolare che ha scritto questo libro nel 1976 illuminante che è Place and Placeless in Outsideness questa dimensione di in Outsideness è una dimensione in cui si è dentro ma al tempo stesso fuori una realtà proprio perché ci si sente come dire respinti questa realtà ma al tempo stesso appartenenti e questo è molto evidente in Trevisan l'ha già detto bene anche Luca i letterati poco fa appunto è bellissimo e ritorna continuamente in tutti i suoi racconti il giornale di Vicenza che viene letto solo per i necrologi per esempio quando va in Germania ma potremmo continuare all'infinito in questo continuo essere dentro e fuori dentro e fuori non posso che immaginare un collegamento di tutto ciò con la riflessione più recente che riguarda tutto il dibattito sull'antropocene e in particolare la declinazione diciamo così più radicale dell'antropocene come capitale cene ma soprattutto waste cene quindi l'era degli scarti Marco Armiero 2021 perché di fatto Trevisan denuncia proprio quelle wasting relationship che stanno alla base o relazioni socio-ecologiche diciamo così orientate allo scarto che sono la base anche dei problemi climatici e ambientali appunto del nostro momento così come peraltro si ritrova anche per esempio nell'enciclica l'ha dato sì di proprio Francesco questa dimensione degli scarti sociali degli scarti ambientali che vanno di pari passo ecco in questo Trevisan vede l'abbandono come una sorta di specchio dell'essere abbandonati dell'essere regi inutili dell'essere scartati e quindi dalla schizofrenia territoriale si passa alla schizofrenia interiore che poi è una frammentazione dell'io ed è una perdita di senso perché non c'è più questa dimensione collettiva e connettiva che ci lega a ciò che sta fuori quindi il ritratto di Francis Bacon del 79 Free Studies for Self-Hortrait che è assolutamente centrale per cogliere la tumefazione dei tre volti che svela il rapporto con la morte e la sua rimozione sostanzialmente devo dire che in questo anch'io ho sbagliato vi racconto un piccolo aneddoto perché appunto in questa dimensione umanistica l'attenzione al soggetto alla sofferenza personale all'alienazione alla dimensione come dire di frammentazione che si coglie nello specchiarsi in una realtà ma poi che si riverbola anche all'interno di sé l'unica volta in cui ho avuto a fare tu per tu con Trevisan è stato quando l'ho invitato ad un'escursione universitaria con gli studenti e avevo deciso di fare lo stesso percorso dei 15.000 passi con gli studenti di geografia per lettere e ho provato a invitarlo io non lo conoscevo prima ho provato a invitarlo e lui miracolosamente mi ha detto di sì solo che volevo farlo incontrare nel punto di scioglimento di tutta la trama quindi la casa nel parco della casa quindi sopra i berici ma lì c'era un problema di pulma non riuscivo a spostarmi con gli studenti avevo 50 studenti insomma alla fine ho detto guarda possiamo incontrarci soltanto a Monteberico perché lì ho lo spazio per parcheggiare far scendere i ragazzi eccetera altrimenti nella strada della commenda lì era molto stretta non si riusciva a tornare e lui ha accettato lo stesso quindi in qualche modo mi è venuto incontro in questa cosa ma poi cosa è successo è successo che siamo arrivati con il pullman e lui arriva con la sua auto e il primo momento è stato imbarazzante perché lui è rimasto in silenzio lui è rimasto in silenzio oppure molto parlava in monosillabi insomma lui aveva bisogno di spazio e di tempo per trovare una sua come dire un suo contesto in cui potersi esprimere e questo spazio e questo tempo io non ce l'avevo perché i ragazzi dovevano tornare entro le sei a prendere i treni a Padova quindi io ero lì che avevo il cronometro come la betoniera io ero come la betoniera in quel momento lì perché ad un certo punto nel momento in cui lui ha cominciato a sciogliersi a parlare e non si fermava più io ho detto dobbiamo andare io ho fatto esattamente l'errore della betoniera ecco questo per raccontare insomma un po' anche un piccolo ha detto sulle wasting relationship ad un certo punto io ho dovuto abbandonarlo e infatti poi l'ho invitato anche l'anno dopo non è più venuto giustamente però ecco la dimensione umana la dimensione dell'inoutsideness la dimensione del radicamento e del sradicamento al tempo stesso è un elemento molto forte che tra l'altro è emerso molto anche questo ci ha legato poi anche nel fare ricerca letteraria ricerca geografica scusate sulla letteratura di Trevisan appunto come geografi cioè l'attenzione alle formule del radicamento e dello sradicamento la terza il terzo come dire livello diciamo di riflessione e quindi passiamo dall'abbandonare all'essere abbandonati all'abbandonarsi qui abbiamo a che fare forse con una geografia più se vogliamo definirla così metaforica o una geografia immaginaria e cioè una sorta di immaginazione di un altro mondo possibile mi viene da dire perché ogni metafora è trasferimento diciamo verso una dimensione diversa visionaria forse anche profetica perché di fatto i luoghi abbandonati all'interno della narrativa di Trevisan dalle aree diciamo così dismesse lungo il fiume Astico Astichello eccetera o appunto la casa abbandonata le rovine o il depuratore o insomma tantissimi altri luoghi sono non solo luoghi di denuncia ma sono luoghi essenziali dice lui definisce proprio così sono luoghi rivelatori sono luoghi di ierofania sostanzialmente quindi lì c'è un insegnamento c'è certamente non c'è un'antiprospettiva chiamiamola così ma c'è un disegno c'è una visione sono i luoghi dello svelamento quindi sono luoghi altri proprio perché ci mettono insieme ci mettono a contatto con una dimensione completamente altra della realtà uno di questi per esempio è la conceria Finco a Bassano per esempio che lui racconta così la prima impressione che si ricava esplorando questi spazi è che lì il tempo si sia improvvisamente fermato ma naturalmente no non è così solo non scorre non fluisce soggiorna abita il luogo ne prevade l'atmosfera si fa respirare toccare pensare e nel mentre lavora indifferente con ostinata determinazione e niente più nebbia tutta la polvere si è depositata un'idea di silenzio è solo un ritmo diverso incredibilmente largo rispetto a quello del frantoio universale betoniera a cui siamo abituati ma vale lo stesso per il depuratore di Cavazzale che è appunto il luogo della depurazione delle acque sporche ma a cui lui fa attenzione soprattutto per quanto riguarda la vegetazione che emerge dalle crepe dell'asfalto del parcheggio del piazzale del depuratore ha a che fare con l'albero davanti alla chiesa di Cavazzale che è un albero gigantesco qualcosa che va fuori dalla misura fuori proporzione fuori calcolo fuori luogo ad un certo punto perché la strada deve allargarci il spazio deve essere un spazio diciamo così in sicurezza per le automobili e questo essere fuori misura essere gigantesco essere fuori luogo è un elemento importante di sottolineatura dell'impossibilità del more than human come si usa dire adesso cioè di tutto ciò che è vegetale spontaneo animale non trova spazio nei tristissimi giardini nella città nella periferia diffusa appunto dove lui si trova a vivere ma è anche l'abbandono scusate questo abbandono e questa dimensione altra emerge attraverso la memoria e la dilatazione dei tempi della toponomastica storica dei luoghi quindi il richiamo evidentemente al bosco dei roveri alle paludi quindi a questa dimensione che ci consente di dilatare la percezione del tempo e di farci entrare dentro una dimensione che non sia il semplice presente quindi i tempi lunghi contro la dittatura del presente che ci richiama un po' la logica della simultaneità dell'immediatezza di cui parla Jonas ma anche la dimensione notturna per esempio in cui tutto si ferma e quindi emerge questa dimensione altra alternativa questa cavalcata e scavalcata dalle proprietà private di notte oppure la neve altro elemento di interruzione e altra ierofania solo momentanea evidentemente è una sorta di illusione poi a un certo punto tutto ritorna come prima ecco tutta questa dimensione diciamo così dell'abbandono di luoghi abbandonati ma anche dell'abbandonarsi ad un tempo altro un tempo diverso mi pare sia un po' un messaggio forte che emerge dalla pagina di Trevisan e questo mi richiama il concetto di abbandono che si ritrova per esempio in Martin Heidegger quindi il concetto di Gelassenheit quindi il tema della calma della serenità o per dirla con le parole del filosofo tedesco il raccoglimento che lascia essere le cose così come sono questo questo raccoglimento è porsi ancora una volta sulla soglia della differenza quindi ecco di nuovo che torna il tema del limite della soglia di questo punto sospeso dove appunto cambiare passo cambiare atteggiamento nei confronti di ciò che ci circonda ed è un po' in questo senso che credo sia interessante collegare queste riflessioni questi spunti a tutta la riflessione anche più recente sull'essere senza tempo Diego Fusaro oppure la fenomenologia della fretta l'epoca della fretta la fretta che isola frammenta polverizza e prosiuga tutto ciò che tocca dice Andrea Tagliapietra nell'introduzione che è quindi una fretta intimamente nichilista e forse anche la ricerca quindi e qui cito Byung-Chul Han questo filosofo coreano appunto che parla del tempo solenne la perita del tempo solenne quindi questa dimensione del tempo completamente diversa completamente altra che è contrapposta appunto al trascorrere e al correre ecco io vedo in questa dimensione diciamo così questa terza dimensione visionaria metaforica diciamo della descrizione di Trevisan due strade da percorrere come dire le vedo come due modalità attraverso le quali effettivamente provare a portare avanti il suo discorso anche da un punto di vista progettuale da un lato il rallentare il fermarsi il sostare e quindi la dimensione del camminare che poi ha ispirato peraltro anche un format diciamo così anche se la parola format penso che sarebbe criticatissima ma un'iniziativa che come museo di geografia appunto abbiamo iniziato proprio partendo da Trevisan questa formula contesti che prevede delle passeggiate letterali che non sono quelle del flaneur appunto il fottuto flaneur di cui lui parla ma qualcosa che ispirato da lui appunto possa consentirci di entrare dentro una certa dimensione approfondirla esplorarla e dare profondità e lentezza anche al nostro andare e la seconda e questa è l'altra chiave attraverso la quale dilatare e creare delle delle crepe all'interno di questo di questo parossistico ritmo diciamo in cui viviamo è quella di raccontare appunto quindi la dimensione della penna della penna da un lato e dei piedi dei passi dall'altro in questo senso io vedo un lasciarsi andare un lasciarsi andare che assume quindi una connotazione se vogliamo più irenica di quella tragica drammatica appunto degli ultimi atti di vita appunto di Trevisan perché resistere dice lui quando la corrente è troppo forte la cosa migliore è lasciarsi andare ho concluso grazie grazie a Mauro Valotto per questa relazione che ci offre un'altra prospettiva appunto di studi sulla narrativa sulla prosa di Vitaliano Trevisan si ricordo come appunto in quel libro che accoglie una serie di saggi sui narratori degli anni 2000 insomma dentro il quale appunto c'è il saggio che hai fatto tu c'è il saggio anche di Franco Tomasi su Giorgio Falco e lì si vede bene appunto come Trevisan da un lato parli di periferia diffusa e dall'altra Falco parla invece di città diffusa in qualche modo invertendo insomma questi riferimenti ma sostanzialmente dicendo in qualche modo parlando la stessa lingua ecco un'altra prospettiva dicevo appunto anche perché questa relazione che parla con le relazioni anche di Luca e delle altre che abbiamo visto oggi ci fa capire ancora di più quanto in realtà la sua vicenza la mia vicenza che non è mia in realtà lui la conosceva veramente cioè il territorio era qualcosa che abitava insomma che frequentava intensamente molto intensamente qualcosa che lo turbava forse anche anche molto quindi insomma quella frase è veramente rivelatrice di un modo di stare dentro anche le cose che amiamo non possedendo in qualche modo sentendo che non che non sono nostre ecco sì giustamente mi sto dilungando e quindi veniamo insomma a un'altra prospettiva ancora quella che ci propone Giovanni Battista Gleria che è e non è al tempo stesso il personaggio che appare con questo o con altri nomi in alcuni testi di Trevisan Giovanni Battista Gleria è architetto allievo di Manfredo Tafuri è studioso di Scamozzi ha contribuito anche al sito Ruins che Trevisan aveva ideato e costruito insieme a Enrico Mitrovic è coautore con Giovanni Giaconi del libro Vincenzo Scamozzi pubblicato nel 2014 come architetto ha collaborato con lo studio albanese di Vicenza e dal 1994 condivide lo studio con l'architetto Alessandro Basso il titolo dell'intervento di Giovanni Battista Gleria è l'agrimensore T un resoconto interrotto sospeso grazie mille grazie a voi naturalmente vi ringrazio dell'invito che mi ha sollecitato e fatto anche molto piacere io ovviamente leggo perché non sono in grado di di una conversazione di tenere una conferenza non essendo abituato quindi seguo un percorso e così riesco a parlare di tutto quello che ho in mente mi sono chiesto con una certa insistenza quale sarebbe stato il ruolo che avrei assunto in questo incontro odierno per me assolutamente inedito e come tale indecifrabile in cui sono stato invitato a parlare dell'amico italiano Trevisan che il tempo e la cronaca ha trasformato in quello che è essendo stato quello che è stato ovvio ovvio mi sono detto quale altro ruolo se non quello appunto di amico cioè di persona informata su una parte dei fatti e dunque testimone attendibile di quello che potrei dire dunque prevalentemente una testimonianza alla mia naturalmente è una posizione che condivido per forza di cose come ha con molti altri quella di amico sia pure un amico riconoscibile in quanto l'intracciabile nella scala del tempo e dello spazio come anche per lo sviluppo della relazione che si è generata negli anni e forse resa tale dalle circostanze che quell'amicizia ha determinato perché in definitiva a voler essere stringenti altri titoli non ci sono quale dunque mi sono chiesto il ruolo di assumere in quanto amico oltre al dovere che ritengo tassativo di sapere anche tacere dove occorre cercando di mantenere un controllo sulla vis rievocativa che la novità di parlare ad altri su argomenti privati e sensibili potrebbe indurre il rischio di deformare inconsapevolmente il racconto finendo col dire cose che non si volevano dire diventa inevitabile quando il soggetto narrante agisce senza filtri consapevoli e soprattutto senza alcuna bussola finendo quindi per rimanere in balia subcoscente delle sirene della vita che cantano incessantemente intorno a lui e a cui serve meglio resistere è più che un rischio direi quasi una certezza per quello che la memoria sempre disporre soprattutto quando l'attenzione è posta su un personaggio noto e contrastante la cui vicenda umana sembra sovrapporsi perfettamente al suo lavoro letterario dove l'interesse delle persone quella di un pubblico generico è accompagnato sempre da una certa fastidiosa morbosità a cui non si vorrebbe dare corda naturalmente non è questo il caso trattandosi di una giornata di studi su Trevisan dove anche il più inveracondo dei punti di vista troverebbe la sua ragionevole e legittima collocazione quindi nessun aneddoto da condividere a parte quello implicito del titolo perché non ne ho disponibili e quelli che potrebbero sembrare tali non essendo funzionali al tema che mi propongo di esporre peraltro suggeritomi dall'organizzatore che mi ha contattato li lascerò volentieri a dormire dove sono se porti nell'inespresso in cui vivono anche se poi è la fine si finisce sempre comunque di parlare di se stessi e di noi ne vedo come si potrebbe fare diversamente se non tacendo e restandosene a casa il tema di fondo a cui allude il titolo di questa testimonianza è sviluppato a partire dal rapporto mio ed italiano con il lavoro sfondo del nostro primo incontro e con i temi generabili collegabili all'architettura intesa qui nell'accezione più ampia e meno accademica del termine per spiegarmi meglio posso provare a sintetizzare nel senso molto molto sintetizzato ricorrendo a due celebri slogan tritti e ritritti vale a dire l'icastico dal cucchiaio alla città di Ernesto Nathan Rogers e l'altro da noi cioè io e l'italiano percepito solo in parte o forse addirittura poco o niente per quello che significava che riduce la casa ad una macchina per abitare tanto per citare un maestro oracolare dell'architettura moderna come le Corbusier letto da entrambi ma questo è stato l'ambiente nel cui ambito abbiamo operato e che il nostro ha in seguito rappresentato e richiamato con continuità nella sua opera di scrittura essendo io un architetto ho lavorato con tre design anni ormai lontani per un periodo di tempo non propriamente breve anni che potrebbero essere definiti di formazione o anche più prosaicamente di apprendistato io imparavo come potevo un mestiere ma forse sarebbe più esatto dire la professione smontando certezze scolastiche che non mi apparivano più tali e valutando aspettative che sono poi le stesse che alimentano i progetti di vita di molti lui non so se imparasse qualcosa come me dato che non lo guidavo un schema formale di desiderata riconducibili ad una linea di pensiero ortodossa o per meglio dire soggetta ai riti professionali che invece erano ben presenti in me ma sicuramente apprendeva in un contesto di formazione che per entrambi mutatis mutandis atteneva forse più alla percezione che al semplice apprendimento il luogo dove avveniva tutto questo quindi lo spazio della scena rappresentata seppure diversamente sperito una sorta di teatro mundi appagante e per di più di domestica e generosa ospitalità conteneva ed esprimeva rappresentandoli in modo esemplare molte delle premesse sperenziali che avrebbero fornito a entrambi un viatico qualche sia anche se di incerta definizione è possibile che in seguito tutto questo sia stato anche rimosso o soppiantato ma in realtà credo credo sia sempre stato presente sullo sfondo relazionale di entrambi quasi come una forma di grafica mentale indelebile qua e là sempre attiva naturalmente io ero già architetto e lui era già geometra senza però che questo generasse alcuna forma di subalternità ma nonostante ciò il binomio era comunque percepito come una dicotomia certo ridicola ma di immanente verità tale dicotomia devo averla poi espressa come il mio solito cioè svuotandola del contenuto etnico corporativo che aveva e che continua ad avere per collocarla nell'ambito più affine a entrambi di un quasi quotidiano torneo letteral cavaleresco si ne pugna come se si dovesse testare insieme la resistenza metaforica dei reciproci materiali da offesa lancia spada o altro che fosse così che i colpi assestati fossero una teatrale condivisione degli assunti gli assunti appunto cioè il nostro essere prima a prescindere da quello che esprimiamo in quel momento nel tentativo quando c'è di farci riconoscere attraverso le apparenze che ci connotano e sovrastano e i pregiudizi che ci inchiodano di qualunque tipo in altre parole e per tornare su una prospettiva avoloradente riconoscere entrambi l'architetto e il geometra che eravamo con giovanile ostica consapevolezza definendo così nel mentre di quella costruzione e decostruzione del proprio status fittizio un paradigma esistenziale di cui informare temporaneamente la vita ma proprio per questo partecipe e consapevole di contenuti e forme di saperi più antichi e universali da usare per guardare oltre le apparenze e le circostanze è in tale contesto parallelo alla routine professionale sondato con continuazione con rilevatori e sensori intellettuali che al tempo forse erano anche ingenui ma sicuramente appaganti che ognuno poteva dar proprio dar voce al proprio talento quale che forse solo così e non diversamente ed è in questo modo che il geometra Trevisan è diventato per me tra un detto e l'altro ma inesorabilmente l'agrimensore italiano Trevisan e tale è rimasto sarà stato il fascino desueto del termine agrimensore che non ha conosciuto la devastante usura semantica di quello che ha sostituito nel corso del novecento geometra appunto ma la stessa cosa si potrebbe dire del termine architetto con la differenza che in questo caso il forte scendente storico e culturale umanistico che lo caratterizza ne ha preservato in una certa misura un margine di credito residuo ma solo nell'elite che lo animo ma sarà stata anche l'allora fresca esperienza della lettura del castello di Kafka e la progressiva consapevolezza di cui di ciò di cui si era partecipi i testimoni cioè di operatori attivi in un sistema che ci sovrastava ma che ci ammagliava anche se a quel tempo qualsiasi parallelo tra K e T non era pensabile sarà stato insomma questo e altro ancora nel gioco di riconoscimento delle contraddizioni e dei risultati vissuti sempre guardando e sonpesando bene i fatti delle imprese alle quali eravamo associati e via via sempre ascoltandoci e confrontandoci con una consapevolezza di quanto l'esperienza ci portava a conoscere che sicuramente definirei più scientifica che è empatica e addirittura col senno di poi quasi narrativa sarà stato tutto questo e nulla più ma il focus geometresco di questa mia testimonianza che per l'italiano ha significato l'essere o non essere geometra senza timbro inoltre come teneva a ricordare lui stesso e l'eventuale valore disvalore o significato che in qualche modo vorrei attribuirgli sembrerebbe collidere con il contenuto o per così dire con la verità letterale e letteraria che l'autore ha lasciato di sé di ciò naturalmente mi rendo conto e non intendo ne posso smentirlo ma questo forse ha più a che fare con me che con lui ma tant'è non mi voglio adentrare in analisi psicologiche non è il mio mestiere ma l'incontro dei tre visani con personaggi che non sono quello che dovrebbero essere ma che di fatto lo sono intendo professionalmente contravenendo così ad un costume una consuetudine una regola un obbligo porta all'attenzione una delle anomalie che illuminano meglio e senza bisogno di grandi spiegazioni il funzionamento tortuoso e autopropulsivo su cui si fondano il consenso e poi la fama e di riflesso l'autostima consenso e fama da cui deriva il corollario del successo che nell'architettura pesa in modo particolarmente problematico per il carattere non solo estetico ma anche per così dire etico morale che gli edifici rivestiano e incarnano per il protrarsi a lungo nel tempo della loro presenza con una forma un disegno e un volume cioè una presenza scenica identitaria che arriva quasi a connotarci a cui non si può sfuggire questo vale sicuramente per tutta l'architettura ma è vero anche e in larga parte per la stessa edilizia con la sua a volte tossica induzione passiva di dipendenza quindi a tutti gli effetti un argomento molto scivoloso e niente affatto alieno anzi cruciale per così dire nel collocare comprendere e accettare la posizione che le persone detengono e incarnano nella realtà o società entro la quale operano dove gli individui che la compongono nella pluralità delle sue espressioni declinazioni frammentazioni corporazioni associazioni eccetera eccetera sembrano appartenervi quasi per garantirne l'autoconservazione se tutto questo è stato vero in passato ha maggior ragione e tanto più lo è oggi che il mondo è pervaso inflattivamente dalla comunicazione e dai solerti professionisti che la ufficiano i veri operatori del consenso dove la misura del diluvio di narrazioni infinite che ci investano sembrano destinate tutti a confluire paradossalmente in una specie di solipsismo plurimo estremo e terminale una sorta di epitaffio collettivo in cui alla fine la fama scolora e le mode friggono l'ultimo Kamerspiel di Trevisan il delirio del particolare è incentrato sulla figura di Carlo Scarpa d'architetto che non era architetto per l'appunto che non viene mai nominato e nonostante sia già morto da tempo è pervasivamente presente quasi animisticamente in ogni oggetto della scena che lo evoca ma soprattutto nei ricordi vissuti della vedova del committente espressi sempre sul crinale del paradosso vissuto che ne illumina lo status di riferimento il testo può essere letto anche come una riflessione puntuale sull'arte che la dramaturgia esalta e potenzia con gli strumenti che le sono propri e che partendo da ricordi e riflessioni personali finisce col definire quasi per accumulo un modo di intendere e incarnare un ruolo ma non solo nell'arte in tutto questo l'ossessione del particolare è sì la cifra espressiva più evidente e celebre dell'architetto che non era architetto ma è anche una connotazione espressiva dello statuto dominante che meglio rappresenta quel modo di essere diverso che è diventato linguaggio con cui si comunica tra simili o associabili ma soprattutto il connettore semantico sul quale si è concentrato il consenso e conquistata la fama cioè in definitiva e accettando la forzatura la ragione dell'epigrafe posta da Trevisan sul testo tratta da un saggio di Maffredo Tafuri su Scarpa per cui il linguaggio scarpiano sembra basato su una poetica che forzando l'interpretazione qualcuno potrebbe leggere in chiave malinconica forse sono solo dettagli di poco conto ingingantiti della mia prospettiva dominata da una certa deformazione professionale impressioni rimaste orfani di conversazioni diventate nel tempo evanescenti ma credo che nonostante tutto mettano allo scoperto o aiutino ad individuare processi e meccanismi anche interstiziali in cui è dato di vedere o cogliere a tratti il gioco della diversità che regola e domina i rapporti tra le persone intesa qui quasi come un destino rapporti tanto più complessi ed enigmatici in quanto interconnessi e spesso sovrapposti tra loro ma riconducibili quasi sempre alle differenze culturali e alla classe sociale di provenienza anche questo un marchio di cui non si libera facilmente e tanto più in un periodo in cui questo aspetto aveva un peso e un senso particolare per intenderci nei termini socio politici ideologici del novecento si tratta comunque sempre di differenze che per quanto superabili o scalabili nella prospettiva ottimisticamente positiva di una costante crescita perseguibile restano comunque quasi sempre una barriera vaporosa contro la quale si infrangono più o meno silenziosamente molti e molti altri ancora di questo presente vissuto inteso come il palcoscenico dove la diversità si mette in scena e i ruoli sono quasi sempre appena assegnati Trevisan è stato testimone attivo attore protagonista indagatore instancabile vittima cosciente oppositore agguerrito trasformando ogni scena in uno specifico contesto ambientale letterario dove la scrittura potesse ridurre tutto ad un suo proprio lessico incondizionato un contesto descritto e toccato in continue ed inesarebili peregrinazioni circolari lineari o casuali cominciate e terminate per essere poi nuovamente riprese e ripercorse facendo emergere fatti eventi circostanze personaggi tutti rhapsodicamente collegati tra loro che a quel paesaggio posto in evidenza sono associabili come dei colori in chiaro scuro da utilizzare per ottenere una migliore focale e profondità di campo del resoconto in corso di scrittura cioè a dire un antropo resoconto letterario come non rilevare quindi che il capitolo postumo della nuova edizione di Works dove tutto ebbe inizio sia a tutti gli effetti una relazione o meglio un resoconto della mappatura di un territorio di una comodità cavazzale che è la sua dove è nato tutto questo utilizzando una strumentazione argomentativa logica e analitica che per come la vedo io è come quella dell'agrimensore di cui il castello non vuole i servizi ma ne riconosce e mantiene lo stesso il ruolo senza farlo esercitare un altro paradosso tanto per restare nella metafora kafkiana il che è come riconoscere e giustificare la presenza di un aedo moderno come Trevisan sulla base di una genologia di riferimenti antropotopografici e di accadimenti che hanno lasciato tracce profonde ed evidenti ma anche leggere ed evanescenti perché la memoria lo è per definizione ecco quindi edifici costruiti e rovine echi lontani e silenzi luci improprie e ombra ma tutto sempre misurabili a piedi e nella notte togliendo spazio ai sogni e fiato ai demoni con un procedimento analitico strumentale che è anche metrico e geometrico insieme per darne non una generica descrizione ma la restituzione la sua e dove se non tra le pagine di un libro invece che in un lucido da disegno di una qualsiasi attavola di analisi urbanistica sul consumo di identità si tratta di un esercizio che sarebbe da rendere obbligatorio nei corsi di laurea in architettura e affine e che potremmo anche intendere come la forma culturalmente più elaborata e suddola del consumo di suolo la ragione profonda della sua pervasività inarrestabile tutto questo movimento questo girare attorno questo radicarsi nel presente per vaso di narrazioni inutili e superflue o solo funzionali ad altro come accennavo all'inizio ai miei occhi prefigurò la presenza di un castello non so se e quanto kafkiano un castello però da intendersi come una sorta di metaluogo inaccessibile da porre sotto assedio perché è nell'assedio non certo nella sua conquista peraltro impossibile che l'azione assertiva dell'agrimensore acquista un significato e giustifica l'ossessione descrittiva che lo pervade la sua volontà indefettibile che è il suo destino questo è infatti il lavoro dell'agrimensore rilevare e annotare spiegare e chiarire risalire ai caposaldi individuando i cippi di confine scomparsi di fondi culturali e antropologici transuenti dandone conto ricorrendo a quella residua perizia professionale che si possiede sempre nonostante tutto anche se rivista e omologata e al sapere esploso del geometra che fu siamo quindi tornati al tema iniziale ancora in esploso ma sempre nuovamente lì da capo studi prendi un diploma magari anche una laurea e sei bollato per la vita nel senso che non puoi più disfarti di quello che sei diventato de facto se non de jure quello che hai raggiunto con il titolo dottore in qualcosa perito in qualcos'altro architetto geometra eccetera detto così sembra quasi una citazione da un pensiero di Trevisan la prospettiva insieme liberatoria e angosciante di un traguardo raggiunto il diploma con cui non ti puoi più esimere di misurarti e se per gli altri questo traguardo ha una dimensione emotiva di normalità e gioia soddisfatta quindi opposta alla tua proprio per questo diventa una trappola esistenziale di apparente insolvibilità viscosa tenace corrosiva inesausta ma allo stesso tempo per quello che posso dire quel diploma di geometra risultato di una non scelta tra circostanze avverse e stato di necessità sembra anche prodigo di sviluppi interessanti certamente tali perché tale è il personaggio e non diversamente che sono coerentemente sottoposti alla volontà di non esercitare la professione su cui in un certo senso sembra quasi fondarsi l'agire e quindi la scrittura consapevole del rischio di forzare forse anche troppo questo aspetto che probabilmente ha significato solo per me non di meno credo che quel diploma debba essere considerato in una prospettiva prettamente artistica e di poetica futura in modo analogo a quello che Luigi Ghirri anche lui geometra avrebbe avuto con la fotografia quel diploma infatti apparentemente non scelto e quindi in definitiva subito ma anche accettato e valorizzato per quello che di utile e funzionale poteva restituire sarebbe diventato per Trevisan un seminatore silenzioso su cui fare un certo affidamento attraverso il quale l'attitudine a concentrarsi sul fuoco del momento sui punti fissi dove far conveggere il pensiero scrittura rilevatore trova una dimensione di senso e di valore più alta e fondante compresa anche la consapevolezza del significato dei propri fallimenti quali non saprei e non potrei dire ma che per me rimangono forme inconciliabili di ragioni avverse in un territorio conosciuto che diventa via via ostile non so quando si parla di radici di uno scrittore fino a che punto sia lecito far rientrare tra di essi aspetti non direttamente collegabili all'arte della scrittura come il caso di Trevisan tutta la cosiddetta giovinezza sembra destinata a sublimarsi in radici anche quando non ci sono un memoir a renderlo esplicito piuttosto sarebbe interessante capire fino a quanto dura la giovinezza letteraria dato che il termine e l'estensione temporale non è mai privo di conseguenze e quanto di essa permane nello scrittore adulto è in questo senso che ho cercato di ragionare attorno ad un banale accidente biografico come il diploma di geometra ma potrei dire lo stesso della laurea in architettura in cui ho creduto di individuare la presenza di una sorta di kit professionale di sopravvivenza messo a disposizione dal caso da cui appunto nella mia immaginazione sarebbe derivata la conseguente trasformazione della sua persona in quella dell'agrimensore T sono giunto alla conclusione e per restare nel mio campo primario di interesse e dalle nostre parti vicentini termino il mio intervento accennando a due precedenti significativi qui accostati a Trevisan per una certa affinità che incautamente gli attribuisco e anche perché ben conosciuti da lui mi riferisco ai due architetti che hanno plasmato e informato di sé più il primo del secondo Vicenza e i vicentini noi compresi cioè Palladio e Scamozzi ma facendolo oltre a ogni misura e aspettativa dal vernacolare più scontato e subliminale fin quasi al metafisico incarnato dunque un richiamo dovuto ma anche un collegamento da naturale inclinazione guidato così scrive Palladio nell'incipit del suo trattato parlando di se stesso e dei suoi inizi nel diventare ciò che sarebbe diventato dal padovano Andrea di Pietro della gondola al vicentino Palladio con tutte le alluvionali ricadute che ci sarebbero state per Vicenza il suo territorio e le persone che lo abitano in altre parole un caso esemplare di costruzione del consenso e della fama per gli anni e i secoli a venire ma in modo analogo si esprime anche Scamozzi sullo stesso tema però con una sfumatura di senso diversa collegabile all'idea della dedizione implacabile e quasi tormentosa del lavoro missione che sostiene l'architetto e che è alla base del suo successo che in questo caso è però anche vittima di un processo di consenso inverso e sottrattivo che lo vede schiacciato dalle sul confronto con Palladio oltre che vittima sacrificata di una progressiva fama postuma negativa in modo analogo dicevo si esprime Scamozzi nel suo trattato essendo così stato inclinato dalla natura due parabole contrapposte quelle dei due architetti rinascimentali affini ma anche diverse oltre le apparenze di un ipotetico riappacificante rapporto tra maestro e discepolo di cui non si può non tener conto per quello che ancora ci dicono e che in una certa misura ci possono dire su Trevisan stesso interrompo qui il mio resoconto lasciando a quello di Vitaliano Trevisan sospeso lo spazio storico e critico che merita grazie 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 Giovanni Battista Gleria è una relazione molto interessante è riuscito con grande eleganza e determinatezza a evitare gli aneddoti ma in effetti non li volevamo gli avevamo chiesti a Ned se ci mancherebbe altro la sua parola è una testimonianza in qualche modo di libertà se così posso dire tra l'altro mi ha fatto pensare anche il mio diploma di ragioneria effetti non c'entra granché insomma è anche riferimento insomma al rapporto Palladio-Scamozzi che è ipostatizzato nel teatro olimpico se vogliamo nella nostra città il teatro olimpico con scene scamoziane per cui questo è un dato di fatto noi avremmo finito per quanto riguarda le relazioni adesso potrei dare la parola a voi sono state relazioni molto interessanti sia quella del mattino sia quella di oggi pomeriggio se c'è qualcosa su cui volete tornare qualcosa che volete chiedere ai nostri relatori o insomma che volete aggiungere abbiamo il tempo per farne un po' Grazie. Prego, sì sì, vuole venire qui? Ce l'abbiamo anche questo, giusto? Non ci tengo ad apparire. Non ci tengo ad apparire, ok. Prego, si rivolga. Ma che non so se mi senti? E allora, questo dottor Donno. Se non si siede, no? Sì sì sì, dottor. Donno, ma si siede? Scusate, so che siete stanchissimi. Io non sono un accademico, sono solo un lettore comune. Io volevo solo ringraziarvi per questa giornata perché sono venuti a fare tante cose. Insomma, a me è piaciuto molto Zinato, l'ho trovato molto esatto. Anche quello che diceva là, Morando, è vero. Sì. Sì, è un problema mio. Quello che diceva Morando è molto giusto, cioè almeno per come la riteneva lui. Era molto più rilassato e molto più coinvolto quando parlava di teatro rispetto alla prosa. Sebbene tutti si concentrino molto sulla prosa. È un po' monolitico il racconto di Trevisan. Lascio perdere l'aneddotica. Perché non è questa la sede. Però il racconto è un po' quello. Cioè il prosatore, Bernard, si gira sempre attorno a quello. Oppure i lavori, il Veneto, il Paschifo, la provincia. È tutto vero. Però c'è anche un altro Trevisan. Vabbè, io ringrazio i letterati per aver citato Ingeber Bachmann, perché per me è Dio. Quindi grazie mille. No, come si vede sono un po' disegno. Ha ragione anche Cortellessa quando dice dell'influenza di Trevisan, cioè del rapporto di Trevisan con il mondo dell'arte. Perché si è parlato tanto di Bernard e di Beckett, ma c'è anche un'altra B che fa parte dell'adride, che è Francis Beckham, per lui Beckham. Quello che vi invito a fare, se non l'avete già fatto, per quanto può contare il mio parere, è a leggere l'opera di Trevisan in una maniera un po' diversa rispetto a quella che ci viene raccontata, approfittando di questa giornata. A me, per esempio, è successo di intervistarlo anni fa. sull'opera Omnia. Con la scusa dell'opera Omnia sapevo che mi avrebbe dato il consenso, ma in realtà io volevo indagare altro. Ero molto interessato a leggendo quello che emergeva alle figure femminili. Il femminile, il suo rapporto con il femminile. Di cui in genere non si parla quasi mai, se non in maniera dispregiativa, perché maschio, cisgender, eccetera, eccetera. Non sono del tutto d'accordo. Quindi ci sono modi di vedere, cioè ci sono dei rivoli. Basta solo essere un po' attenti e indagare, ma in realtà c'è tanto, anche di inaspettato, nei suoi libri. Quindi adesso che è morto lo sto anche ristampando, quindi benvenga. Io comunque avevo trovato tutto tramite le biblioteche. Prestiti interbibliotecari mi avevano dato volumi che non erano più disponibili o anche cose in rivista, non solo volumi, c'è tanto. Anche di teatro c'è parecchia cosa interessante. Quindi sì, vi invito a fare questo. Per esempio sul femminile c'è tantissimo, quindi anche Tristissimi Giardini se ne ho parlato oggi, è stato citato molte volte, ma in realtà magari non tanti sanno che nasce come libro di risposta a un altro libro che è Stanza 411 di Simona Vinci. Simona Vinci scriveva una lettera, cioè la narratrice scriveva una lettera diretta a un uomo con la quale aveva avuto una relazione. Trevisan risponde al libro facendo rispondere la madre, con una battuta della madre. e tutta la parte di nascere e crescere in una famiglia matriarcale è fondamentale per Trevisan e spesso non si dice. Qui c'è anche il binomio con Pasorini se vogliamo. Però sì, c'è tutto questo aspetto che se volete si può indagare. perché viene raccontato spesso come scrittore per maschi, io con lui ho parlato tantissimo di omosessualità, di donne, di tantissime cose che in genere non vengono accostate a lui o alla sua. Quindi vi invito ad abbandonare un po' di filtri, cambiare le lenti, magari siete già allenati a farlo, perché posso apprendermi. Tutto qua. Grazie. 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 Va bene. Dove parlare degli atti? Sì, parli degli atti. No, Matteo vuole che parli degli atti. Eh? Li facciamo, certo che li facciamo, ci mancherebbe altro. Sì, li facciamo, vediamo se, visto che questa è una giornata giornata che nasce anche come dittico, ci sarà un'altra giornata all'Accademia Olimpica di Vicenza, vediamo se fare gli atti insieme a loro, l'appuntamento è per novembre, il 13 novembre all'Accademia Olimpica di Vicenza per una seconda giornata su Trevisan. Va bene se non c'è nient'altro possiamo chiudere qui, vi ringrazio molto per essere intervenuti e alla prossima, grazie.